In 1930 e 1940 dobbiamo essere capaci di organizzare e risolvere tutti i problemi. C'è una bellissima frase in un libro dove una signora che abitava qui nell'Anza dell'Arno fu cacciata dai tedeschi e andò profuga a Oliveto, quindi dall'altra parte del fiume, cosa dove non era mai stata, però usa il termine profugo. Questo profugo, ricordiamoci che non è un nostro nemico, sono persone con cui dobbiamo organizzare un futuro migliore. Un altro momento per non dimenticare, domani alle 21 alla città del Teatro a Cascina per ricordare con la musica e le parole. È singolare il metodo con cui gli amministratori pisani lengono gli atti e le norme solo per contestare il collegio, ad affermarlo il presidente del collegio dei revisori del comune di Pisa, Vergamini, in una nota nella quale contesta la presa di distanza, seguita la segnalazione inviata nei giorni scorsi alla Prefettura, per evidenziare potenziali squilibri di bilancio dopo l'approvazione del documento finanziario, nonostante l'assenza di certezza sugli introiti provenienti dalla Tasi. Una bella esperienza per alcuni studenti di Livorno, che hanno partecipato al progetto di alternanza scuola-lavoro. Sono stati i ragazzi dell'Istituto Nicolini Palli a partecipare a una giornata del progetto di alternanza scuola-lavoro curato dal settore protezione civile del comune di Livorno. La scuola e il comune hanno sottoscritto una convenzione per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Leonardo Gonnelli, dirigente della protezione civile del comune di Livorno, un'altra esperienza di questo bel progetto. Sì, è una cosa che stiamo seguendo da diversi anni. Questi ragazzi sono stati meravigliosi, meravigliosi veramente. Hanno interpretato proprio noi stessi della protezione civile in maniera egregia. Un'esercitazione un po', gli ha messo un po' di ansia addosso, però hanno superato nettamente l'esame. Sono i nostri portatori, i nostri portatori migliori. Per fare dei cittadini anche responsabili, c'è stata anche una fase teorica qui proprio nella sede in via dell'artigianato, in orario didattico di scuola. Sì, i ragazzi hanno trascorso una settimana con noi, hanno trascorso tutto il loro orario proprio giornaliero, hanno fatto tante cose e hanno costruito anche uno spot, un soggetto, una sceneggiatura per uno spot che noi speriamo di poter farvi vedere appena sarà pronto. C'è stata una selezione o sono proprio classi della liceo? Dunque, questi sono 12 ragazzi dell'indirizzo sociale-economico del Palli e 4 ragazzi del liceo classico. È stata fatta una richiesta e noi abbiamo potuto ricevere ben 16 ragazzi. Un'esperienza bellissima. Martina, Lorenzo, la coordinatrice che si chiama? Rechelle. Questo gruppo a che cosa è stato adibito? Questo è il team che dovrebbe risolvere i problemi nella città in caso di emergenza, come per esempio un terremoto. La difficoltà che ha incontrato Martina? Rispondere alle tante chiamate e soprattutto trasferire queste chiamate a tutti i miei compagni. Lorenzo, velocità e... Sì, è stato molto complicato perché arrivavano molte telefonate una dopo l'altra e quindi, infatti, come ha detto Martina, era molto difficile poi riportarle agli altri ragazzi. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Sono un po' indecisa, comunque mi piace molto la legge, però da poco tempo ho scoperto l'importanza anche della medicina, quindi sono un po' indecisa. La protezione civile potrebbe avere un ruolo nel tuo futuro? Non lo so, però ho riscontrato che è un lavoro molto impegnativo e mi piacerebbe mettermi in gioco per salvare delle persone. Bene, la Toscana e la Sardegna più vicine con il nuovo servizio del gruppo Grimaldi, servizio di collegamento tra i porti di Livorno e Dolbia, dedicato al trasporto di merci e passeggeri. L'armatore apre una nuova stagione operando con la nave Ropax Zeus Palace, capace di trasportare 1.500 passeggeri, 2.000 metri lineari di carico rotabile ed oltre 100 auto al seguito. Il servizio avrà una frequenza giornaliera, comfort professionalità a bordo. È la prima volta che il porto di Olbia entra a far parte della fitta rete di autostrade del mare, gestita dal gruppo Grimaldi. A bordo di Zeus Palace anche una nostra troupe che seguirà la traversata, poi domani mattina in diretta alle 9 le immagini della cerimonia, che Olbia preparerà per dare il benvenuto a questo nuovo collegamento tra Livorno ed Olbia. Il parcheggio di piazza Benamozeg a Livorno rischia di non poter più proseguire la sua attività. Sentiamo Piero Giorgetti. Un parcheggio vitale per la mobilità cittadina e nel cuore della città rischia la chiusura. Si tratta di quasi 100 posti in piazza Benamozeg. Già a Livorno acquistare casa è direttamente collegato alla possibilità di avere un luogo dove porre la propria auto, quale che sia, purché esente da multe. Il Comune ha notificato alla società che ha in affitto il posteggio l'atto che intima la sospensione dell'attività. Ci sarebbero delle irregolarità di tipo edilizio alla base della decisione, compresa una porzione di 300 metri quadri di piazza che non era inserita nella concessione. La società ha in gestione il parcheggio dal 1990 e da allora non è stato spostato neanche un paletto e quindi c'era comprendere a quando risalirebbero gli illeciti. Accettamenti emersi a distanza di 26 anni e che hanno apportato il Comune a emettere il divieto di prosecuzione attività. La società ha chiesto lumi sulle irregolarità riscontrate ma non specificate e nel mentre si cercava di capire chi, come, dove e quando, a sorpresa, ultimamente di moda, è arrivato l'atto sopraddetto, sospensione attività parcheggio fino a chiarimento, altrimenti si procederà al sequestro dell'area. Insomma, un potenziale di quasi 100 posti auto in meno che, mancando, creerebbe il panico per chi lo impiega per recarsi al lavoro tra uffici, banche, l'area del mercato e i disperati della zona C che, non avendo luoghi dove parcheggiare il proprio mezzo, causa bancarelle e furgoncini, transumano in zona D. Fino al giugno 2014 vigeva un'ordinanza che unificava le due ZTL proprio per queste difficoltà, ma sinora non si è ancora provveduto al rinnovo e, mancando questo, le multe sono lecite. Lo ha tradito la voglia di dire per forza una messa in latino particolare, questo che ha spinto i responsabili di un convitto religioso pisano a chiedere lumi su quel prete che si era presentato da loro come cappellano militare della Marina, temporaneamente a riposo e che da qualche giorno aveva ottenuto ospitalità. Da qui la segnalazione all'ordinario militare e la scoperta che quest'uomo in realtà era un millantatore, un docente ma stese in pensione di 58 anni con falsi tesserini militari in tasca. L'uomo è stato denunciato per usurpazione di titolo. E ora parliamo dei nostri stili di vita e della nostra salute. Oggi un incontro promosso dal Serra Club. Il Serra Club ha organizzato a Livorno, al Teatro Salesiani, un incontro sul tema la ricerca scientifica al servizio dell'uomo, gli stili di vita delle nuove generazioni che sono una minaccia per la salute orale. Ne parliamo con il professor Mario Gabriele, ne abbiamo già parlato tra l'altro anche nelle nostre trasmissioni sulla parodontite, su Granducato TV, ma ricordiamola ancora una volta. Quali sono queste minacce? Come possiamo prevenire? Quali sono i buoni comportamenti da seguire? È una cosa tutto sommato molto semplice perché in realtà sono proprio una dieta scorretta, malattie essenzialmente trasmesse e quindi una prevenzione, un'accortezza particolare, il fumo, gli stili di vita riguardanti le droghe, sia il fumo che le altre più complesse e quindi in questa relazione si faranno vedere le percentuali notevoli dei giovani che fanno uso di queste sostanze e che fanno uso di questi stili di vita poco adeguati e quindi chiaramente si daranno delle indicazioni sull'eventuale possibilità di prevenzione. Una prevenzione però che deve nascere da dentro perché in realtà certi stili di vita vengono seguiti perché c'è del vuoto dentro, si dirà alla fine, ovvero sia mancanza di valori, ovvero sia un consumismo esagerato ed estremo che va a interferire con le problematiche culturali, antropologiche dell'individuo e quindi di base c'è il fatto che si va dietro a certi stili non perché magari ci si crede ma ci si va, cioè i giovani ci va perché appunto è portato ad andarci dal fatto che il gruppo lo fa e quindi lui viene trascinato e il problema grave è che c'è del vuoto, dicevo dentro, perché manca di valori e quindi è fondamentale ridare i valori a questi giovani e l'importante è che la ricerca di questi valori porterà loro a veramente fare rinnovamento e far cambiare gli stili di vita perché il cambiamento degli stili di vita lo faranno proprio i giovani, quelli stessi che attualmente ne sono vittime e colpevoli, per cui tutte le lesioni che si hanno nel tavorale sono proprio legate a questo fatto, quindi giovani vittime, colpevoli di uno stile di vita voluto magari da un consumismo estremo che va ad alterare, come dicevo prima, sia l'elemento culturale sia l'elemento antropologico e che quindi sicuramente va modificato e va migliorato. Il 27 gennaio, domani la terza puntata dello speciale Parodontite sulla nostra emittente. Terzo e ultimo appuntamento di questo speciale Parodontite, mercoledì 27 gennaio alle 21.35 e giovedì 28 gennaio alle ore 13. Come si manifesta? Lo chiediamo al professor Mario Gabriele e Filippo Graziani che ci hanno, come dire, sostenuto in questo progetto televisivo e sono stati fondamentali per far conoscere meglio la Parodontite. Come si manifesta la Parodontite, professore? La Parodontite si manifesta con due segni importanti che sono il sanguinamento delle gengive e il lieve o marcato vacillamento dei denti. Qual è il consiglio che date all'utente? A chi ci ascolti? Di andare appena comparissero queste manifestazioni e se si protraggono specialmente quella del vacillamento di andare dal proprio dontoiatra a fare una visita accurata e attenta in maniera tale da cercare prima possibile di intervenire perché ricordatevi che i denti non si perdono per vecchiaia, cioè non c'è un qualche cosa dove è scritto che alla tale età si perde il dente, il dente si perde per un processo infiammatorio che c'è tutto intorno a questo organo importantissimo non solo per l'estetica come magari più di voi crede o pensa, ma in realtà per la masticazione, un organo essenziale per la funzione del tavorale. Quindi per l'insorgazione è fondamentale uno screening, andare a verificare lo stato di salute della gengiva intervenire, rimuovere batteri, vedere le sacche, ridurle eccetera eccetera. E la base, quando il paziente sente o ha sanguinamento gengivale, alitosi o gengive che si ritirano che sono i tre principali sintomi, deve subito andare dal professionista o almeno una volta l'anno a fare un periodontal screening record, cioè un test molto semplice dove tramite un sondaggio periodontale si vede se il paziente ha qualche tasca, cioè qualche aumento di spazio fra dente e gengiva. In quel caso intervenendo subito, come tutte le patologie, ovviamente è più facile da mettere sotto controllo. Quindi mercoledì 27 gennaio alle 21.35, giovedì 28 gennaio alle ore 13, la terza ed ultima puntata. Vi posso dare il consiglio? Non ve ne perdete neanche una. E se magari ve la siete persi, registratela. E se ve la siete persi, andate sul sito dove sarà sul nostro e su quello del professor Gabriele e del professor Graziani per andare a sentire esattamente cosa hanno detto. Cosa importantissima, utile per tutti noi e per tutti voi. Una presidenza tutta al femminile, quella della pubblica assistenza di Livorno che ha rinnovato i suoi organismi, Marida Bolognesi con 185 voti e nuovo presidente, la vice Alessandra Mini, oggi nella sede uno scambio di auguri con la presidenza uscente, naturalmente l'augurio della nostra redazione per un buon lavoro. Spazio alla regia per la pubblicità, a tra poco. Nuova linea Livorno Olbia Grimaldi Lines, compagni di viaggio Da Orsini Franco, il più grande deposito della Toscana continua la grande offerta bagno completo a 512 euro Sanitari, pozzi e ginori, rubinetteria Ideal Standard e Ponsi vasca o piatto doccia, pavimento e rivestimento Inoltre troverete le migliori marche come Marazzi, Ragno, Ideal Standard, Jacuzzi, Pozzi Ginori, Bisazza, Rubinetteria Ponsi Ceramiche Sant'Agostino, Casal Grande, Padana, PM by Valentino Versace, Casa Dolce Casa, Geo Pietra Ceramiche di Vietri, Francesco De Maio Camini Palazzetti, Camini Amiata, Parquet, Cotto il Ferrone d'Impruneta Orsini Franco, davanti al campo sportivo di Novica Vicchiano, Pisa Non va oltre il pareggio 1-1, uno sfortunato Livorno contro il Como al picchi nel posticipo della 23esima giornata di Serie B Sentiamo Allora, mi sembra un po' una maledizione Mi dispiace, mi dispiace per i ragazzi, mi dispiace per i tifosi anche che ci hanno aspettato e ci hanno incoraggiato prima della partita, che devo dire, in questo momento non ci sta andando bene niente qualcuno ci sta mettendo del suve per metterci in difficoltà e noi dobbiamo essere sotto tutti gli aspetti sereni anche se in questo momento non è facile, provare a ripartire perché la partita di oggi significava molto per noi non averla vinta ci mette ulteriormente in difficoltà Mi dispiace per il Presidente che sappiamo bene quanto sia attaccato ma soprattutto per l'ambiente, per il Puglio, per tutti perché ci hanno sostenuto fino all'ultimo e non siamo stati in grado di vincere questa partita Il mister è più dispiaciuto per il risultato o per l'arbitragio? Guarda, il risultato fa malissimo perché ci tenevamo tanto a vincere eravamo un po' anche contratti all'inizio, preoccupati, non lucidi però è chiaro che ultimamente siamo in una situazione che quando c'è uno spiffer diventa una tempesta incredibile, abbiamo gli episodi sotto gli occhi, altre realtà questo non succede e anche sotto certi aspetti, non so come mai, noi abbiamo grande educazione e rispetto perché veramente a volte ti viene la voglia di aggredirle, di lasciarti andare però dobbiamo masticare amaro e comunque guardare a quello che sarà domani però adesso effettivamente il livello è pieno Senta mister, nove partite e tre punti, sono veramente pochi, lei non ha fatto una valutazione Valutazione negativa, cioè prendiamo responsabilità in un momento che la squadra aveva bisogno probabilmente di qualcos'altro, allo stesso tempo tante situazioni non ci hanno aiutato a livello di infortuni, proprio di un disastro a livello, che sapete bene per cui è chiaro, è un momento di grande negatività e io sono il responsabile, cosa devo dire? Va avanti Ma io sai, no per carità, sono le cose che ti, il mio lavoro è questo, mi dispiace, dispiace cosa devo dire? Però allo stesso tempo non è mai successo, non è mai successo è una situazione dove sono subentrato, anche molto più in parte di questa, è una situazione anche intermedia, dove c'è dei problemi, però invece la cosa è precipitata e è normale che l'allenatore è responsabile Quindi lei si sente a rischio? Noi sempre ci sentiamo in discussione, anche quando le cose possono andare al meglio di adesso però diamo la coscienza a posto, vi ringraziato i ragazzi, i miei collaboratori che stiamo lavorando con grande professionalità, te lo posso garantire, purtroppo il calcio ha fatto anche i risultati Queste dunque le dichiarazioni a caldo di Mr. Mutti, l'Unione Fiume nel pomeriggio negli uffici di Genova dopo l'annuncio delle dimissioni del Presidente Spinelli del Figlio nessuna indiscrezione sul nome di quello che dovrà essere il nuovo Presidente in riferimento invece alle notizie riguardanti la chiusura delle indagini della Procura di Napoli Livorno ha comunicato che la posizione della società è già stata sanata con l'Agenzia delle Entrate di Livorno è tutto, anche per stasera vi ricordo come sempre l'appuntamento con il nostro TG Runner grazie per l'attenzione, arrivederci grazie per l'attenzione, arrivederci solo da Ideal Bimbo trovate tutto quello che concerne il vostro bambino tutte le marche, tutte le possibilità che vi vengono in mente e chi le trovate e tutte le offerte più incredibili soprattutto soprattutto le offerte più incredibili fino al 31 di gennaio quindi potete andare anche sul sito www.idealbimbo.it per vedere oppure recarvi in uno dei 7 negozi Ideal Bimbo che sono a Firenze, Sovigliana, Calenzano, Fornacette, Livorno, Pollonica e anche in Grosseto Ideal Bimbo dove cresce un bambino sapete che la pallantita e il pioreo al gengibito espulsiva colpisce un adulto ogni 2 da la prima causa di perte dentaria è associata ad atti sistemi come l'aterosclerosi, il diabete e l'obesità e trattandole non si conservano solo i denti ma migliorano la salute di tutto il corpo pertanto se ti sanguinano le gengive e si ritirano i soffili delle tosi basta un semplice test di screening professionale per vedere se hai la malattia quindi ricordatevelo bene, i denti non si perdono per il vecchiaia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti e tanti buoni per acquistare gli alimenti perché la scelta di questa associazione quest'anno? allora questa associazione è stata scelta dopo una lunga meditazione pensi che noi abbiamo istituito il premio Lineson nel 92 e da allora questo è l'undicesimo premio quindi lo dedichiamo in effetti a quelle associazioni o persone meritevoli di questo riconoscimento lo abbiamo fatto negli anni passati identificandolo in persone della zona in associazioni ancora della zona e quest'anno la nostra scelta è caduta sulla associazione la sorgente del villaggio l'associazione meritoria per quello che fa e per come assiste segue questo nuovo fenomeno è una ripetizione nuove povertà è vero, è vero da come lo fa soprattutto ecco io sottolineo che più che all'associazione noi diamo il premio ai volontari dell'associazione perché un'associazione senza le persone giuste non ha senso queste sono persone che noi abbiamo conosciuto e abbiamo ritenuto meritevoli proprio per la loro attività in un momento in cui la comunità ha bisogno proprio di sostegno ma non di parole, ha bisogno di fatti per questo anche l'attività di organizzazioni come la vostra si sta orientando sempre più in iniziative filantropiche? Certamente sì, noi facciamo parte di un'associazione mondiale che è la Lions Club International e con questo attraverso donazioni e versamenti noi aiutiamo anche casi molto gravi nel mondo alluvioni eccetera eccetera ma in modo particolare ogni club si localizza e si focalizza sulle bisogni locali, sulla comunità quest'anno infatti abbiamo dedicato tutte le nostre attività alla raccolta e all'erogazione anche di denaro finalizzato proprio ai bisogni locali Certo a scorrere i numeri dell'impegno di questa associazione in particolare vengono i brividi a capire che intorno a noi in un territorio comunque così anche diciamo che non aveva questi problemi ci sono invece situazioni difficili Ci sono situazioni difficili e ce ne rendiamo conto quando ce ne occupiamo ci rendiamo conto di quanto veramente si è incrementato il bisogno ma fortunatamente ci rendiamo conto anche di quante attività, di quante associazioni e persone si dedicano ancora più di prima alla risoluzione di questi bisogni non dimenticando anche le istituzioni pubbliche e le amministrazioni Si può dire volontari, voi aiutano altri volontari loro? Sicuramente sì, sicuramente è un modo piacevole di una catena finalizzata a un buon fine La Presidente dell'Associazione Premiata, la sorgente del villaggio naturalmente esprime anche pubblicamente tutti i ringraziamenti al Lions Club di Cecina e anche un po' di orgoglio per aver ricevuto per l'impegno costante che approfondete questo premio Intanto diciamo quali sono i numeri della vostra attività, le cifre che rendono meglio l'idea? Le cifre sono 4.000 pacchi viveri consegnati alle famiglie del territorio che vengono segnalate dai servizi sociali e 20 pasti circa al giorno per 365 giorni l'anno Quanti volontari siete a fare questo? A fare questo siamo una trentina di volontari che turnano alla mensa, due turni al giorno uno per pulire e l'altro per dispensare il mangiare e poi siamo impegnati nel fare la spesa e poi nel distribuirla alle famiglie bisognose C'è un sostegno alla vostra attività da parte della popolazione, delle istituzioni? Dobbiamo essere onesti, noi negli anni abbiamo ricevuto tante donazioni da parte di singoli cittadini quindi siamo molto contenti perché le persone ci hanno imparato a conoscere sanno che la nostra associazione spende tutto quello che gli viene dato per i poveri e quindi nonostante il numero cresca sempre di più siamo in grado ogni anno di soddisfare quello che ci viene chiesto Dalle istituzioni abbiamo una convenzione con l'ASL di 6, di 10.000 euro e il comune quest'anno ci ha assegnato 10.000 euro Quanti sono, chi sono i poveri? I poveri sono, una fascia sono i poveri cosiddetti istituzionali quelli che da 10, 20, 30 anni sono in carico alle istituzioni ma la fascia più grossa, quella che sta emergendo ora sono pensionati con la pensione minima coppie che hanno perso il lavoro con bambini piccoli famiglie con donne sole e bambini a carico E crescono? Crescono ogni giorno ma il problema è che non hanno solo bisogno del cibo hanno bisogno di aiuti per pagare le utenze hanno bisogno di aiuti per pagare l'abbonamento dei bimbi che vanno a scuola quindi è un continuo crescere le richieste A un altro socio impegnato da tempo nel Lions Club di Cecina ma chiedo più in generale quali sono le attività previste per questo 2016 che ha appena cominciato Ecco, noi dopo il premio Lions avremo un'iniziativa al Teatro Lordigno di Vada il 13 febbraio dove si esibiranno degli attori dilettanti dell'Uni3 di Cecina e anche qui il ricavato sarà destinato a delle associazioni che si occupano delle disabilità dei disabili che sono sul nostro territorio Successivamente avremo una rassegna di danza che faremo al Teatro Solvay anche questa è un'iniziativa che facciamo già da anni questa sarebbe il sesto anno che la facciamo, quindi la sesta edizione e anche questa il ricavato degli ingressi, dei biglietti d'ingresso sarà devoluto alle associazioni che si occupano delle disabilità disabilità che possono essere persone handicappate ma anche persone anziane mi riferisco in particolare ai malati di Alzheimer per cui c'è a Rosignano una serie di volontari che si occupano di raggruppare queste persone e di fargli vivere un po' la vita in maniera più decorosa rispetto a quella che sarebbe la loro vita da singoli Siete diventati un po' un punto di riferimento nel tempo e nel territorio per queste associazioni? Perlomeno lo cerchiamo di essere L'altra iniziativa importante che anche questa è al terzo anno si chiama i Lions in piazza per la prevenzione sanitaria in questo caso praticamente costruiremo una specie di ospedale da campo sulla piazza centrale di Cecina dove ci saranno medici sia Lions che fanno parte dei Lions sia anche altri medici che danno la loro professionalità per fare delle visite gratuite a chi ne ha bisogno e chi si propone lì nella piazza Al vice sindaco che ha anche la delega al sociale in questo comune di Rosignano Marittimo chiedo che apporto sta dando un'associazione come questa L'associazione sta dando un apporto fondamentale considerando che siamo in un momento in cui le problematiche di carattere sociali e le nuove povertà stanno incrementandosi come purtroppo un po' in tutto il nostro paese Sicuramente questo è un punto di riferimento come dicevo importante cerchiamo di sostenerlo per quanto possibile come amministrazione sia direttamente e indirettamente anche come società della salute e fra l'altro in questo ultimo anno abbiamo triplicato i fondi messi a disposizione per l'associazione in modo da poter garantire una maggiore operatività e quindi maggiori risposte per i nostri cittadini in difficoltà Direi che l'impegno di associazioni come questa diventa quasi necessario, insostituibile Assolutamente, è un impegno estremamente importante ed è importante anche perché come associazione riesce a raccogliere anche la solidarietà e comunque organizzare quindi la solidarietà e in qualche modo coalizzare intorno a queste problematiche un po' un senso di appartenenza della comunità e di tutti i cittadini C'è una vera emergenza sociale in questo comune? Diciamo rispetto ad altri territori forse abbiamo numeri più bassi però diciamo che c'è stato un incremento e c'è un incremento che è legato poi a tutta una serie di problematiche fondamentalmente la perdita del lavoro, la disgregazione anche dei nuclei familiari e questo ovviamente rappresenta un elemento sicuramente di attenzione per l'amministrazione e per i soggetti che con l'amministrazione collaborano Le istituzioni fin dove possono arrivare? Noi annualmente stanziamo risorse importanti per tutte quelle che sono le attività sociali ed in particolare anche per quanto riguarda quelle che sono le nuove povertà ovviamente a fronte di risorse che anche gli enti locali stanno avendo in maniera ridotta qui c'è un aumento di necessità e quindi dobbiamo anche cercare di inventarci nuove forme di finanziamento noi stiamo partecipando come società della salute anche a bandi che ci consentono di poter trovare fondi nuovi che in qualche modo possono essere destinati a queste finalità Musica 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 Nuovo appuntamento con le pillole di gusto oggi parliamo di latte e latticini Musica Musica Ti piace il latte? Sì molto Quando lo bevi? Solitamente la mattina o con lo yogurt o il latte normale Sai che con il latte si possono fare anche le creme, i budini? Sì sì lo so Ti piace il formaggio? Sì Sai cosa sono i mammiferi? Sì sono gli animali che che allattano i propri figli Quindi qualcuno di questi produce il latte anche per gli uomini? Sì Tipo le mucche, le capre e le fecore Lo yogurt lo consumi? Sì sì Quando? A merenda Sai come si fa? No Sai che si può fare anche in casa? Sì Il formaggio a filiera lunga ha il problema di essere costituito dal latte pastorizzato quindi è un latte che viene prima bollito ad alte temperature e ad alte pressioni per essere sterilizzato e poi vengono riaggiunti gli elementi Invece il formaggio a filiera corta generalmente fatto si dice con latte crudo ha il vantaggio di essere prodotto a una massima temperatura di 40 gradi Questo vuol dire mantenere tutta la qualità sia salutare che di sapore, la qualità organolettica del latte, degli animali, di quello che gli animali hanno mangiato Il formaggio viene fatto dal latte mutuo di pecora nel caso nostro della nostra azienda agricola è il latte crudo sia di pecora che di capra e il latte poi viene messo in un pentolone e viene portato alla coagulazione a una temperatura dalle 36 alle 40 gradi in base al tipo di formaggio che uno vuole fare e di conseguenza relativo a pH I formaggi freschi nella nostra azienda vengono tenuti nella cella del frigo da tempo di 30 giorni fino a circa 3 mesi gli stagionati poi passano in una cantina stagionatura dove c'è un maggiore ghetta tasso di umidità per effettuare la stagionatura finale fino a massimo in 12 mesi dal 1906 l'Officina Ortopedica i Maffi in Via Paoli 7 a Livorno vi offre un servizio di garanzia, qualità e serietà nella produzione diretta di prodotti ortopedici come carrozzine, lettini, protesi, tutori, scarpe e busti su misura vendita al dettaglio e all'ingrosso e convenzioni mutualistiche Officina Ortopedica Maffi, Via Paoli 7 a Livorno aperta da lunedì al venerdì con orario 8.12.14.18 Compra poco o compra tanto, l'importante è essere contento e da noi trovi tutto scontato del 50% Saldi invernali a magazzini mangini, tutto scontato nell'abbigliamento uomo, donna, bambino, tutto scontato del 50% qui siamo in un reparto importante e importante per i saldi perché Marina Yachting, guardate bellissimo questo vi dico qualche prezzo, ora non tutti non ve li posso dire questo qui si risparmia 234,50 euro costava 4,69 euro allora per i saldi dovete comprare dovete comprare, a parte ci pensate già da voi ma in particolare il prodotto più importante perché? Perché il risparmio è ancora più importante per esempio qui siamo nei blues qui si risparmia 139,50 euro costava 2,79 e il risparmio è del 50% saldi da magazzini mangini, tutto scontato del 50% fermi, fermi, però ora non abbiamo tutta roba questo qui costava 69,90 euro questo piumino qui, 69,90 euro scontato del 50%, 34,95 cioè non abbiamo solo il prodotto alto abbiamo anche il prodotto medio il prodotto dove si spende un pochino meno però abbiamo anche le pellicce di visone qui siamo nel reparto pellicce di visone che siamo organizzatissimi belline moderne e abbiamo deciso una grossa partita di pellicce di visone ora ve ne faccio vedere qualcuna così per esempio questa qui col cappuccio questa qui costa ancora meno costa 5,95 se no le pellicce di visone questa qui per esempio 1393 euro 9,90 cioè ce ne abbiamo tantissime a 990 euro pellicce di visone moderne, belline qui siamo nel reparto Marella anche questo qui è un reparto molto importante e per i sardi funziona molto bene anche qui scontato del 50% guardate bellissimo questo capo qui qui si risparmia 139,50 euro costava 279 cioè qui non è che si spende qui si risparmia poi abbiamo i famosi giacconi della Geox non ce ne scordiamo perché sono adattissimi per la stagione invernale questo capo qui capo qui qui siamo nella zona Elena Miró 249 il primo prezzo 124,50 euro si risparmia 124,50 euro sempre di Elena Miró abbiamo questo parca bellissimo vi dico quanto risparmiate qui 274 euro risparmiate costava 5,49 euro cioè non è che spendete risparmiate però abbiamo un collo di burmaschi le manopole di burmaschi cioè questo è un oggetto importante voglio dire ci abbiamo certo Elena Miró costa un pochino di più però ci abbiamo guardate questo guardate questo 79,90 euro si risparmia 39,95 euro il costo con il 50% di sconto è 39,95 euro questo anche questo qui un bel giaccone giaccone bellino fatto bene insomma ora certamente non ha questo qui non ha il pelo di burmaschi è un pelo ecologico viene chiamato sintetico vuol dire ecologico questo qui quanto risparmiate risparmiate 49,50 euro costava 99 risparmiate la metà sconto del 50% questo bello questo bello bellissimo guardate è bellissimo questo capo qui bello uno si leva uno sfizio una taglia importante qui risparmiate 124,50 euro costava 2,49 il risparmio è del 50% e fino fino al 24 di gennaio siamo sempre aperti con orario continuato 9,30 19,30 sempre per darvi un servizio perché viene anche da lontano non siamo davanti alla porta di casa abbiamo clienti che arrivano da tutta la Toscana e noi per gli sconti vi diamo questo servizio l'abbiamo dato fino a dicembre perché c'era i regali di Natale insomma che erano importanti però ve lo diamo anche per i saldi invernali e per la gioia ora siamo nel reparto bambini per la gioia dei grandi e dei piccini per i saldi invernali comprate sempre da mangini vi voglio far vedere questo bellissimo giaccone da bimba bimba sì, questo è un oggetto da bimba a qui risparmiate 39,95 39,95 un bel giaccone da fare il regalo alla bimba alla figlia alla nipote allora motivi per venirci a trovare per questi saldi invernali ve ne abbiamo dati tantissimi però se venite a trovarci ora articoli non ve li abbiamo fatti vedere tanti il tempo purtroppo stringe ma ce ne abbiamo così tanti da accontentare quasi tutti ora non dico tutti ma quasi tutti allora per i saldi invernali noi come al solito vi si aspetta Magazzini Mangini dove è di moda risparmiare la rosa di Terricciola Pisa Magazzini Mangini 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a tutti coloro che sono qua in sala, che tra poco conosceremo. Tanti ospiti, ospiti belli, ospiti importanti, tra poco li conosceremo. Intanto, velocemente dalla regia centrale, se ci fanno vedere la locandina, voglio iniziare da questo, perché mi sembra una cosa estremamente grave, quello che è successo e che sta succedendo dopo alcune manifestazioni, più o meno legittime, che sono state fatte in città e che hanno prodotto anche un effetto domino, anche dal punto di vista sportivo. Sono stati combinati dei DASPO a persone che hanno protestato per alcune questioni che riguardano la casa, che riguardano la sicurezza. Venerdì 29 gennaio, al circolo Arci Pisanello, in via Marsala 2, no DASPO di piazza, la libertà non si diffida. Quindi c'è un'iniziativa con l'avvocato Checcoli o Checcoli, che porterà a conoscenza le dinamiche di questa iniziativa organizzata dal comitato Nodaspo di piazza, anche i ragazzi della Curva Nord, Maurizio Alberti, che ovviamente invitano tutti ad essere in questa serata. Credo che sia un fatto gravissimo, perché la libertà giustamente non si rifida. Uno protesta magari anche vivacemente perché non ha lavoro, perché non ha la casa, e quella persona viene ritenuta un pericolo pubblico che non deve andare all'interno di uno stadio o all'interno di un locale. Credo che si stia passando il limite. Ho voluto iniziare la puntata con questo perché mi sembra giusto dare corpo e voce a questa iniziativa molto bella che ci sarà venerdì 29, ripeto, a Pisanello. Poi c'è un'altra cosa. Oggi è arrivato un altro giocatore in maglia nera azzurra. Lui è un giovane del 90, insomma è già un giocatore maturo da un certo punto di vista, viene dal Cesena, si chiama Oscar Tabanelli, è un centrocampista, diciamo di corsa ma anche con i piedi buoni, è più attaccante che difensore, una sorta di trequartista o quantomeno può giocare, eccolo lì, il giocatore che è arrivato e che farà le visite mediche domani si presenterà subito agli ordini di Gennaro Gattuso e quindi un altro rinforzo. Sembra che la cosa dal punto di vista delle entrate non sia finito qua. Ovviamente ci sono delle uscite un po' difficili, potrebbero essere fatto torto collo in qualche maniera, obbligando certe persone o a stare fuori o andare in tribuna o magari qualcuno che gioca meno di andare in prestito da qualche parte. Laddove questo si verificasse ci sono ancora nell'obiettivo un paio di calciatori. Uno che era stato messo dopo la partita con la Pistriese, terzione sinistra della Pistriese, estremamente forte, che è stato chiesto ma la Pistriese ha detto no, invece per l'attacco ancora caldo il nome di Torromino, più che di Sanzovini, perché Sanzovini è un giocatore che guadagna circa 300 mila euro l'anno, ha ancora due anni di contratto e di manto, vorrebbe finire a 36 anni la carriera a casa sua e comunque è un'offerta quasi rinunciabile dal Foggia e non solo da lui. Mi sembra un obiettivo difficile, però nel calcio ci sta tutto perché Pisa, anche Euseppi era così, poi alla fine ha scelto Pisa. Allora, prima di andare a presentarvi gli ospiti che ho in platea, vi posso garantire che stasera sono ospiti interessanti ed importanti, saluto invece chi è con me, mi aiuterà a portare in porto questa puntata, Andrea Cosimi. Buonasera, Andrea. Buonasera. 30 secondi per aggiungere qualcosa che ho detto, di più o di meno di quello che ho anticipato. Mi piacerebbe parlare anche dell'articolo 9 una volta, insieme, in una trasmissione, perché no da... Se ci fosse la disponibilità dei protagonisti e degli autori... L'articolo 9 è un articolo incostituzionale, che è la cosa più grave, quindi bisognerebbe alzare la sensibilità. E qui c'è un applauso per l'ora. È stato a Pisa, lo abbiamo nel cuore, così come lo scorso anno poi è rimasto Alberto Pedagotti, lui ha difeso la porta del Pisa, almeno non ce l'ha fatta a fare il salto con noi, ma è un tifosissimo del Pisa, ora è portiere all'Empoli, Maurizio Pugliesi. Buonasera. Maurizio, lo conosci Tapanelli? Tapanelli no. Non lo conosci? Sicuramente no. Sanzovini e Toromino sì, però. Sanzovini sì. Chi è, secondo te, chi è di cui potrebbe spostare l'equilibrio? Ah, Sanzovini è un giocatore... Sanzovini. Secondo me, per la categoria, fantastico. È appena diventato direttore tecnico del Pisa-Ovest, ma per noi è il grande, è il grande, è il grande Stefanino Garuti. Buonasera. Ciao Stefano. Senti, c'è sempre la ricerca di prendere attaccanti e si parla poco invece di non prendere gol. Ormai il calcio è così? Sì, anche perché poi alla fine si parla sempre di chi fa i gol, ma l'importante è che mi diceva una volta, ho fatto un minuto, sono andato a fare tre giorni di militare a Bologna e c'era un ragazzo con me, era il figlio del presidente della vecchia Virtus a Sinodine e allora avevano appena preso Danilovic, un giocatore di basket, faceva tantissimi punti. Sì, straordinario, straordinario. E lui, io gli dico, cavolo avete preso, perché poi a Bologna, sai, si vive Bologna, si fa la canestra, si viveva molto, là c'erano tre squadre in a uno addirittura. E lui mi disse, sì, siamo contenti, ma sai, per fare cassa c'è l'attaccante, chi fa i punti, ma per l'inizio del campionato si vuole una gran difesa. E aveva ragione, aveva ragione, secondo me. Eh sì, è una legge del calcio. Allora, stasera sono venuti a trovarci insieme all'amico Paolo Ciucci, che è il direttore artistico di Miss Mondo Toscana, accompagnato da altre persone, non so se ci sono tutte, comunque le presenteremo. Intanto presento, anzi, se vi alzate venite qua accanto a me è anche meglio, così vi vedono anche meglio da casa. Non solo gli ospiti che ho un... E mi chiedono di venire qui, ragazzi, dovete venire qui. Che ci posso fare io? Facciamone un applauso. Mettetemi accanto. Eccole là. Tutte in fila. Allora, Kitana Polvani di Collodi è la vincitrice di questa tappa, diciamo, di Miss Mondo, fatta recentemente al conventino, giusto? Sì. Hai battuto tutte loro? Sì. Te la fanno pagare ora. Eh, speriamo di no. Speriamo di no. Diciamo, beh, se Giulia Bruschi di Alto Pascio c'è, eccola là. Buonasera Giulia. Ma siete così alte? Buonasera. Buonasera. Vuoi dire qualcosa? No. No. No, no, ma lo sapevo che avessi detto. Eleonora Moriti, dov'è? C'è Eleonora? Come va? Bene. Puoi salutare qualcuno? Ciao mamma. No, signori Quattro. Deborah Sarti, dov'è? Eccola. Sarti, dov'è? Con la corona. Sì, io ho vinto la selezione a Gambassi, a Siena. Prima di questa? Sì. Prima di questa. E dormi con la corona? No, non chiedo. No. Però è bello portarlo, vai. Sì, sì. Per far cosa? Per arrivare dove? Qual è il tuo sogno nel cassetto? Paolo, per cortesia, insegnale qualcosa. Il mio sogno nel cassetto è diventare un'attrice. Diventare un'attrice. E invece abbiamo, se non sbaglio, Ina Tunuzzi, giusto? Sì. Buonasera. Buonasera. Sei emozionato? No. No, no, no. Allora, vai. No. No. No, scusi, eh. Spiacente. Cliente non conosciuto. Cos'ha detto il socialista? Niente. Chi ha telefonato, scusi? No, ha fatto una foto. Ah, e la foto parla, eh? Ah, ok. Facciamone l'applauso a questa signora. C'è la foto che parla. Superbile. Superbile. No, ma stiamo in diretta, signora. Non si preoccupi, ci divertiamo. Stia tranquilla. Non sapevo che c'era il telefono che parlava dopo una foto. Poi ve lo spiega, eh, però. Allora, Ina Tunuzzi, mi pisa, giusto? Sì. Posso, è brutto, chiedere l'età, sì. No, no. Lo dici volentieri. Sì, sì. Quanti anni hai? Quindici anni. Ma so che siete rimasti tutti basiti. Smettete di guardare loro. Ti invece? Diciasette. Diciasette, sei anziana. Diciotto. Venti. Diciasette. A posto, andate a posto, vai. Vabbè, ascoltateci. Dovete salutare gli ospiti? Guardi, sono ospiti importanti. Lui ha giocato in Serie A tanti anni. Potete anche girarvi, eh, per la gioia dei te... No, perché c'è Andrea, se no mi taglia il saluto. Buonasera. Arrivederci. Fate pure come volete, eh. Cioè, potete rimanere anche qui. Ciao, piacere. Ciao. Potete andare, ragazzi. Un applauso a tutti loro, dai. Cara Andrea. Ecco, sì. Allora, saluto la polisportiva ginnastica, se non sbaglio, di Ghezzano. Tutti in piedi, tutti in piedi. Eccole là. Facciamogli un applauso forte. Eccole là. C'è anche il suo presidente, che poi conosceremo. Dice, non si vedono. Vabbè, sono piccole, è normale. E quindi ci sono, ovviamente, gli istruttori, gli istruttrici. Grazie alla collega Assunta De Salvo, che ha combinato questa serata. Poi vedremo delle esibizioni, ok? Un saluto anche ai giovanissimi 2001 dell'ACPisa 1909. Eccoli là, in piedi. Facciamogli un applauso forte. C'è arrivato anche il presidente di Realitalia, quindi siamo tutti. Saluto anche Checco Carmignani dell'Associazione Centro. Checco, buonasera. Ecco là, ciao. Ci hanno preso in parola, perché quando Totuccio Galate è venuto la scorsa settimana, ha detto che lui ha un'azienda che si chiama Infila per te. Sono venuti tutti in fila. E ne ha portati diversi. Alzatevi, alzatevi. Infila per te. Eccoli là. Alzatevi, tutti insieme. Buonasera. Ragazzi, dovete sapere che quando avete un problema, telefonate a Totuccio e lui vi sistema. Torna, capito? Cioè, fa la fila per voi. Solo quando andate in pedana non può partecipare al vostro posto, ma fa la fila per voi. Quindi per prendere un posto, per pilotare un aereo, un pulma, il treno. Lo sapevate che c'era questa azienda che fa questo? No. E stasera la conoscerete. Allora, caro Andrea, ritorno un passo indietro. Alessandro, facciamo sentire ai nostri telespettatori le parole di Reno Gattuso, che poi commenteremo insieme. Perché Reno Gattuso, nella parte dell'amarezza, ha riconosciuto la superiorità del terramo. Però nella parte finale dell'intervista ha detto qualcosa che, qualche maniera, debba far riflettere. Nel senso che io ho visto il settimana, con l'arrivo dei nuovi, con l'arrivo dei nuovi, ho visto un po' di musini lunghi. Se questo è l'atteggiamento, hanno sbagliato indirizzo e casa. O perlomeno questa è la mia lettura. Vorrei sentire anche la vostra, dopo aver sentito l'intervista al grande mister, Reno Gattuso. Quando giochi in una squadra costruita a vincere, ci devi provare. È normale che hai un peso, perché devi vincere. Non è l'obiettivo di salvarti, che è lo stesso, su per giù. Ma la qualità di questa rosa è una rosa importante. Però penso che la cosa più importante, quando io parlo di... Secondo me, chi non vuole rimanere, gli ho detto che vengono a bussarmi, perché io devo fare delle scelte. C'ho giocatori importanti, lo so. Noi giocano solo 11. E quando si abbassa l'asticella, che qualcuno ha... A casa mia si dice il Marchese. Quando qualcuno ha il Marchese, lo devi mettere da parte, perché qua mancano tre mesi. E siccome già la negatività è la città che la porta, le persone, tante persone che circondano questa piazza qua, io non voglio che me la danno anche i giocatori. Allora, gli ho detto che chi non vuole rimanere, vengono a bussarmi, chiamiamo anche il direttore, e faremo delle scelte. Così, perché dici queste cose? Perché io credo che quando... Avvisi qualcosa che non ti torna. Io credo che quando si preparano le partite si deve preparare con vehemenza e cattiveria. È normale che oggi la qualità sia alzata. Devo fare io delle scelte importanti. E non voglio vedere persone che mettono a primo posto i cazzi loro e a secondo posto le problematiche del PIS. Siccome mancano tre mesi, ci stiamo giocando a qualcosa di importante. Possiamo scrivere una pagina importante in questa città. e non permetto a nessuno di riuscire a fare aglianamenti, perché dopo alla fine raccogli, quello che esemene raccogli, a casa mia si dice. E quando stai là a fare sempre qualcosa col muso o non li fai con il veleno giusto, alla fine dopo la paghi. Questa sicuramente la responsabilità di questa sconfitta è la mia, me ne assumo la responsabilità, però è un concetto che è giusto ricordarlo, perché per quello che abbiamo fatto ad oggi è stato il valore aggiunto di questa squadra qua. Dopo se qualcuno pensa di meritare, di essere più bravo e merita altri giocare 90 minuti di partite, l'importante è saperlo e guardare avanti. Stefano, parto da te, mentre stiamo vedendo i primi piani che i nostri operatori fanno a tutti gli ospiti in sala. Cosa ne pensi Stefano? Insomma, è una denuncia abbastanza forte, ma molto probabilmente lui l'ha percepito dentro lo spogliatoio questo disagio. Posso fare una precisazione, nel senso che lo spirito di corpo di appartenenza ad una squadra oggigiorno è difficile da avere, perché ci sono troppi prestiti, troppa gente che va e che viene. Io porto i miei esempi, perché è quello che ho vissuto. L'anno che abbiamo vinto il campionato, i miei giocatori, io ho fatto 4 anni a Pisa, Viannello 5, Gozzoli 4, Ferruccio ne ha fatti 6 o 7, lì c'era spirito di appartenenza. Noi la maglia non l'avevamo, avevamo la pelle dipinta di Nero Azzurro. Ferri in fretta. No, era quello. Allora giocavi anche per l'allenatore, giocavi per il pubblico, giocavi per Romeo, giocavi per Pisa, c'era poco da fare. Adesso forse più giocatori, la maggior parte sono quelli che giocano per loro spesso. Settiamo un giocatore, cosa ne pensa, che ha vissuto un anno a Pisa, tifoso del Pisa, e come interpreti le parole di Rino Gattuso? Che siamo parole forti è vero, perché come diceva, ha denunciato un qualcosa che lui vede tutti i giorni, insomma, il giudizio lo può dare solo lui. Per quanto riguarda queste parole, io dico che per vincere è vero che ci vuole un grande gruppo, anche perché quando poi va in campo ti deve allenare sempre a mille per poi la domenica rendere sempre al massimo. Non sono d'accordo sul fatto dell'appartenenza, se siamo un prestito o meno, perché è il nostro lavoro, è la nostra passione, quindi quando va in campo devi dare al massimo, prima di tutto, ripeto, in settimana, e poi quando va in campo giochi comunque per una squadra e devi dare al massimo, punto. Andrea? Non ne farei un caso, Gattuso ci ha abituato a queste estermazioni, ha colorito anche, piuttosto forte. È una persona molto schietta, molto diretta, esterna molto tutto ciò che prova, che a me e a noi piace così, però non ne farei un caso, credo che dalla prossima settimana con il mercato terminato, il Pisa si stabilizzerà anche da questo punto di vista. 30 giorni di mercato sono troppi, Andrea, onestamente sì. Le giudicazioni soprattutto di riparazione, distraggono, distraggono, 15, perché se uno deve prendere un paio di pezzi per rimediare, il prezzo bastino 15 giorni, perché i musini lunghi sono anche quei giocatori che dicono forse deve andare via, noi che diciamo è sulla lista di partenza X e Y, magari non gioca la domenica, quindi è normale che abbia il muso lungo, questo è normale insomma, poi da febbraio quello che c'è, c'è insomma, sono d'accordo, sono d'accordo con te. Allora, com'è? Dobbiamo andare in pubblicità? Allora, subito dopo la pubblicità lo faremo nei tre stacchi successivi, noi avremo anche, abbiamo messo qui un tappetino con i nostri amici della Polisportiva Ghezzano, ci saranno delle mini esibizioni, tanto così, per dare corpo e forza anche alle bambine che sono venute, che ci faranno vedere qualcosa, insieme ai propri istruttori, ai propri istruttrici, vedono qualcosa, non mi voglio anticipare nulla, quindi preparati eventualmente perché la pubblicità, poi appena ritornate, siete voi protagonisti di questo angolo, preparato. A tra poco. A tra poco. interportuale pisana, servizi integrati alla logistica internazionale, via della Darsena Pisa, telefono 050 800 841. L'impossibile diventa possibile. Nuova Focus Wagon con Active Park Assist. To help you, go further. A 195 euro al mese. Blue Bay, a Pisa, Livorno, Cecina e Piombino, Ford, si dice così. Banca Popolare di Laiatico, dal 1884, sostiene lo sviluppo della provincia di Pisa. 5.700 soci, 30.000 clienti, 17 filiali. È operativo il terzo sportello nella città di Pisa, in via Bargagna, zona Cisanello. Banca Popolare di Laiatico, pensare globale, agire locale. Cerrai Elettronica, cellulari e telefonia, impianti di sicurezza per abitazioni e aziende, consulenza, installazione, assistenza. Cerrai Elettronica e a Pisa, in via Battelli 61, in Corso Italia 22, in piazza Sant'Antonio e al centro commerciale Pisa Nova e a Ponte d'Era, in piazza Gronchi 35. Cerrai Elettronica, da 40 anni al vostro servizio. Occhio a non perderti questa notizia bomba! D'ora in poi, prima di fare acquisti, visita il sito seahappy.it o scarica l'app gratuita. Scegli la tua città e troverai eventi, promozioni e sconti pazzeschi su ogni genere di prodotto o servizio vicino a te. Allora, tutto chiaro? Sì Happy, offerte ed eventi della tua città. Sì Happy è un'idea, pagina Sì S.P.A. Compra poco, compra tanto, l'importante è essere contento e da noi trovi tutto al 50%. E per i saldi invernali nel reparto uomo, donna, bambino, tutto scontato del 50%. Magazzini mangini, dove di moda risparmiare. Sempre! E noi, come al solito, vi si aspetta! Magazzini mangini, dove è di moda risparmiare. La Rosa di Terricciola, Pisa. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Bertolini Assicurazioni con 40 anni di esperienza, professionalità e consulenza in tutti i rami assicurativi, offre le migliori coperture assicurative al minor costo. Per tutti gli sportivi e gli abbonati del Pisa, sconti e promozioni particolari. Ciao, sono Fabrizio Bertolini. Vi aspetto nei nostri filiali di Pisa in via Cesare Abba, di Pontassierchi in via Ceghevara, di Cascina in via Cei e ad Asciano in via Possenti. Allora, eccoci in compagnia delle ragazze con la pronte. Io sono insieme al Presidente Riccardo Lorenzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie di essere venuto qui con una delle polisportive, quindi varie discipline. E questo è un fiorallocchiello, però, anche vostro, no? Assolutamente sì. Basta guardarle. La ginnastica è stato uno dello sport che ha caratterizzato la polisportiva che ha 30 anni. Sono centinaia di ragazze che... Centinaia addirittura. Sì, quasi cento. E praticamente si continua una tradizione che ormai è conosciuta decisamente in tutta la provincia. Guardate come sono carine. L'avete scelta anche come misura, eh? L'avete fatta... Siete bravi, cioè... Siete veramente bravi. È un allenamento di anni per fare questo tipo di selezione. Permette la misura così, eh? Esattamente sì. Allora, volete farci vedere qualcosa, bimbe? Ci sono anche gli istruttrici, se non ho sbaglio, Daniela, Virginia, giusto? E poi c'è Luca. Buonasera. Buonasera, Luca. Istruttore, agonistica. Allora, forza. La scena è vostra. Anche io, Andrea Cosi, mi si fa spesso a casa questa roba qua. Che fa questa roba? Questa Alessandra la vedo dura per te, eh? E vai. E vai. Prego, prego. Guarda questa. Allora. Allora. Ecco. Fatemi capire i stutti. Prima arriva una pedata. Eccola. Questa è l'ultima? Scusami. Questa è l'ultima? Forza, facciamogli un applauso forte. Brave, bravissime. Bravissime. Tutte insieme. L'applauso del nostro pubblico. Complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i complimenti. Grazie a tutti. Aspetta, lo faccio anch'io. Aspetta. Me lo fa fare anche a me, signora? Me lo fa fare anche a me? No. Eh? Questa è l'ultima. Eccola là. Forza. Ancora. Eccola lì. Complimenti. Brave. Con la gambina davanti. Lo posso fare anch'io? Perché ridite Giancarlo? Scusa. Me lo fate fare anche a me? Si mettono tutte a ridere Paolo. Un'altra trasmissione ci va. Allora, come ti chiami? Francesco. Greta. Matilde. Linda. Emma. Asia. Martina. Asia. C'è due Asia. Quanti anni hai te? Sette. Sette anni. Eccola. Di nuovo, grazie. Grazie. Prego, accomodatevi. Poi ci sarà una seconda parte. Presidente, un'ultima cosa. L'obiettivo di questa società? Divertirsi, far divertire, far crescere, stare assieme, per il gusto di stare assieme e vedere tanta bellezza. Per esempio, non so, voi dove vi allenate? Alle palestre di Ghezzano. Sono abbastanza ampie? Sì, poi ne stiamo costruendo un'altra, per cui cerchiamo di trasformare Ghezzano in un pollo davvero per il basket. Perché non organizzi una tappa alle palestre di Ghezzano? Non sarebbe male, eh? Con tutte le ragazze della Polisporti. Pensateci. Poi... Siete graditi ospiti. Senti là. Ma Miss Mondo, eh? Sto parlando. Noi veniamo a fare la giu. Ospitiamo ogni forma di bellezza. Grande Presidente! Allora, Andrea, è arrivato questo ragazzo. Si parla ancora di un altro arrivo. Secondo te è necessario questa squadra? È arrivato un centrocampista che tutti hanno tirato fuori dopo l'arrivo di Macris. Un Macris hanno detto, siamo a posto. No. Poi si perde una partita, si va tutti in fibrillazione perché a Pisa è così. Manca qualcosa. Manca un portiere, manca un terzino, manca un centrocampista, manca un'altra punta. Non è che si può giocare il 147, eh? Allora, io ho molta fiducia in Lucchesi. Appunto. Ho molta fiducia in Gattuso. E quindi credo che loro sapranno se è il caso di far arrivare Torromino. Te la preferiresti a Sanzovini? Direi di sì. Direi di sì. Perché? Lo vedo più giovane. È una squadra in Lega Pro, bisogna correre tanto. In Lega Pro bisogna correre. Non basta il nome, non basta... Se viene, se viene da metter in aree, è dura. Lo so. Però io tra i due preferirei Torromino, anche perché mi giunge voce che Torromino abbia una gran voglia di vestire la maglia nera azzurra. Quindi già questo è un'altra cosa. E' un'altra cosa che si sta rinforzando. Poi non è che Sanzovini non lo vorrei. Sì, sì, ho capito. Comunque il mercato credo sia praticamente chiuso. Al massimo potrà arrivare un giocatore, non di più. Dopo Tabanelli... Chiedo scusa, ho chiamato Oscar, si chiama Andrea Tabanelli. Che è un ottimo acquisto. Molto, molto interessante. È un ragazzo del 1990. Però mi ricordo a quello che diceva il grande... Il grande Stavola Veruti. Cioè, è primo non prenderle. Cioè, da sempre. In B ci vanno le squadre che prendono pochi gol. Certo, questo ha fatto un gol, ragazzi. Eh beh. Della domenica, del sabato. Era un po' solo soletta all'imito dell'area. Certo, il Teramo li fa questi gol qui. Di solito ha questo schema. Palla indietro con tutti che vanno in area. Ci fece Godonnarumma. Hanno fatto dei blocchi interessanti. Dei blocchi interessanti, certo, certo. Un'ultima considerazione la faccio sia a Maurizio che a Stefano Veruti. Tutti dicono che è un duello fra Spal e Pisa. A 15 partite alla fine è giusto dire così? Ma, sono quelle che sono in cima, quindi sì. Però, ora io non ho visto le partite di Sareci. Posso dire del Pisa che secondo me è una buona squadra, è un buon organico. Peccato per la battuta del resto di domenica, però hanno ancora lo sconto diretto in casa. E speriamo che rimane un divario di tre punti che riescono a colmare. Meno sei sono tanti, ma possono essere anche pochi, no Stefano? Ma quei tre punti sono pochi, non ci sono rossi problemi da quel punto di vista lì. La cosa importante è che trovino il bando della matassa, nel senso che ora con i nuovi acquisti si arrivi a determinare quel gruppo che Gattuso prima diceva, insomma, per cui quello è importante. Perché il gruppo c'è, ora c'è qualche malumore. Però se ne cambi tre o quattro e arrivano per giocare questi, non arrivano per fare l'incalzo. Quindi vuol dire che tre o quattro devono stare fuori. E il gruppo, non lo so. Cioè, il mercato di gennaio, sono d'accordo con te, sono un aspetto Stefano. Il mercato di gennaio si chiama mercato di riparazione. Cioè, si va a intervenire in uno barra due punti dove magari hai dimostrato un po' di debolezze. Trasformare, facendo venire una mini rivoluzione. Perché se ne viene ancora uno, vengono sei giocatori nuovi. La cosa confortante è che loro hanno il polso della situazione. Quindi sia il direzio sportivo che l'allenatore, quindi se ne hanno fatto di credere lo necessario. Io ci vedo l'intento di avere 24 titolari. Cioè, ci provano subito quest'anno, l'hanno detto. Per me è la volontà è questa. Tra non molto. Checco, vieni qua un attimo. Checco Carminiani, un mitico club di Ponta Serchio, che insieme agli altri suoi amici, l'Associazione Centro, ormai sta facendo cose estremamente importanti. Qual è l'obiettivo e la priorità dell'Associazione Centro da oggi in poi? Da oggi in poi è l'apertura del Museo del Pisa. Sente parlare da troppo tempo però, Checco. No, a voi. Volevamo stringere un po' i tempi. Diciamo che è imminente perché giovedì andiamo per la prima volta a vedere i locali, a fare rilievi con i tecnici del Comune. e quindi abbiamo... So chiederti dove oppure top secret? Sotto lo stadio, sotto la curva sud. All'ingresso della vecchia Arena Garibaldi? All'ingresso della vecchia Arena Garibaldi dove avevamo chiesto già da... C'erano degli studi medici se non sbaglio? C'erano degli studi medici che ci saranno dati dal Comune per creare questo Museo del Pisa. Il museo è una cosa che abbiamo, te lo sai benissimo, in testa dal centenario. Abbiamo già avuto vari locali, varie offerte per metterlo. Sarà fatto solo un museo o sarà eribito altre cose? Per ora noi ragioniamo solamente sul Museo del Pisa, su riempirlo più di materiale possibile, anzi invitiamo... No, a dirlo perché io so che ci sono tantissime persone a casa che magari anche inconsapevole hanno cimelli di una volta, anche banali, tra virgolette, sul piano delle dimensioni, ma importanti per la storia che rappresentano. Chiunque ce l'abbia, non è che le regalate a qualcuno, le regalate a voi stessi, alla storia, perché l'Associazione Centro poi le metterà in mostra un museo che sarà visitato dalle persone. Sì, assolutamente non viene regalata a noi, ma viene regalata alla città, perché mi viene fatto un museo per la città, a disposizione della città, il materiale rimane poi dei legittimi possessori. Ti piacerebbe che tanti logo Pisa Sporting Club un giorno possano ritornare anche sulle magliette nero-azzurre, oppure vi siete messi l'animo in pace? Ma per me sarebbe il sogno mio, ma penso di tanti e anche della nostra associazione. Riavere il vecchio nome Pisa Sporting Club, riavere anche il vecchio logo, è quel titolo che giustamente secondo me dovrebbe andare alla squadra, visto che tutte le squadre che hanno subito fallimenti nella maggior parte hanno riavuto il loro titolo e il loro logo. Venerdì c'è questa riunione molto importante, dove si parla di libertà, perché da spare gente che protesta per avere una casa, avere un lavoro. Personalmente sai che è una cosa che a me colpisce molto, anche perché so cosa vuol dire avere il DASPO e... Hai tirato la carta igienica. Una volta sì, altre volte no, però comunque non è... Io perlomeno l'ho preso per lo stadio, gente che non lo prende per cose che non c'entrano niente con lo stadio, non mi sembra una cosa... Cosa c'è in mano? Qui ci sono due libri, 105 Pisa, che è la storia delle formazioni del Pisa. Non ci sarà mica anche lui per caso. Non ci sarà anche lui per caso. C'è anche Garuti, c'è anche Garuti, ci sono tutti e due. C'è Garuti, sì? Sì, qualche pagina c'è. Qualche pagina c'è. Te l'hai visto giocare lui, eri piccolo, ma l'hai visto giocare. Garuti l'ho visto, Garuti l'ho visto già. Ti ricordi il gol che ha fatto sotto la curva con chi l'ha fatto? Mi ha fatto i quattro, a me cazzo l'ho. Uno con l'avellino. Quello di testa, molto bello. Uno con l'avellino. E uno con l'Ascoli. L'Ascoli. No, l'Udinese, scusa, l'Udinese. L'Udinese, bravo, aveva la maglia bianco-nero, è vero. L'Udinese. Fuori casa... Sempre di testa, Stefano? Quei due rì di testa, sì. Quei due rì di testa. Poi hanno fatto una San Siro, bello di testa. La San Siro, stupendo con l'Inter. Senti, il giocatore più forte che hai marcato, chi è stato? Allora, quelli più forti ce ne sono stati tanti. Quelli che avevano messo più in difficoltà, anche quelli tanti, ma soprattutto erano diversi. Nel senso, i più forti, vabbè, ha marcato Diaz, uno dei giocatori più forti che ha marcato Ramon Diaz. Poi, prima ancora, Bettega, Altobelli, insomma, Pruzzo, insomma, ne hanno marcati tanti. Ma proprio quelli che mi mettevano in difficoltà erano giocatori piccolati. E brevili, eh? Quello che mi faceva investire, no, è stato Silva. Se ricordi, Silva, l'attaccante del Pescara. Ah, sì, sì, sì. Che era fall'allenatore. Quello che mi faceva impazzire. Bari centro-basso. E il più carogna? Che t'ha menato lui. Il più carogna, ecco, gli siamo, era stato, ma non era carogna, era un po' cattivato. In campo era uno che si faceva, era Bettega, Bettega si faceva sentire. Ah, quella faccia da Angelo picchiava menava, eh? Eh, sì, lui te la dava prima, ma te la dava, sì, ti faceva arrivare. Sgumitava, eh? Sgumitata, quando entravi ti facevi entrare, alzava la gambina, quindi tu entravi e ti facevi male picchiando contro di me. Senti, velocemente, 20 secondi a testa, Sarri o Mancini? Sarri o Mancini? Ah, io Mancini. Mancini, Sarri o Mancini? No, ma non chi preferite, lo sapete perché la domanda l'ho fatta. Quindi Mancini ha fatto bene a denunciare... Io avevo fatto rimanere tutto in silenzio. Andrea? Mancini. Mancini, quindi Sarri è sbagliato per te. Te invece, questo è il caccio, però poi ci sono anche Zingaro di... Sì, perché te lo dico, perché se io mi arrabbio con un'altra persona, non mi viene mai in mente di dire frocio, finocchio o cose varie. E non penso che venga in mente né a un toscano né a un napoletano, visto che Sarri un po' tutti e due. Quindi vuol dire che ce l'hai proprio. Adesso per amore di Dio... Ma io dico solo per il fatto che in campo c'è, diciamo, di tutti i colori, quindi... Vabbè, c'è il limite in libido. Sì, sì. No, perché poi c'è un effetto domino, sai Paolo, perché te sai che a Pisa l'anno scorso ci giocava un giocatore che si chiama... Finocchio. Ah, Finocchio. E lui, l'accompagnatore, l'allenatore in seconda, ha urlato al suo giocatore, ovviamente, Finocchio fai questo, l'abito l'ha buttato fuori. Cioè, no, capisci? Cioè, c'è un effetto incredibile, un effetto domino. Eccessivo. Eh? Eccessivo. E vabbè, eccessivo. Senti, dimmi. Noi doniamo il libro a Maurizio e a Stefano Vellutiti. Sì, perché Andresce non ha ventina, li vende al mercatino delle pulci. Sì, chiaramente li invitiamo a contattarci se hanno voglia di partecipare al museo. Ma te Stefano c'è qualcosa che ti è rimasto da Pisa sportiva? Le maglie le ho dati via tutte. No, ma a parte le maglie. C'è delle fotografie, sono tante fotografie. Fotografie, ma anche scarpini, mutandine, niente, non c'è nulla. Calzini, niente. Era un'altra vita, quindi l'ho dato via proprio tutto, l'ho regalato. Ma qualche foto ce l'hai particolare? Le foto sì, le ho tenute tante, tutte in un cartone, ma tutte le fante, sì. Qui ci sono i nostri decapiti, chiaramente. Un applauso e un abbraccio alla situazione certo. Grazie, Chetto. Ci faccio le foto con un maglio storico. Allora, 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 allora. Vieni qua, Chitana, vedo giusto? Vieni qua. Te hai vinto questa tappa, giusto? Ecco, quando Paolo vi chiama e vi dice c'è da fare questa tappa, c'è da fare questa esperienza, voi dite subito di sì, oppure ci pensate, oppure per voi è un'opportunità per fare cosa? Perché poi uno ha detto io voglio fare l'attrice, io voglio fare una cosa. E' chiaro che queste esperienze portano, come dire, a televisioni, cinema, modelle, sfilate e quant'altro. Il tuo sogno qual è? Diventare una modella. Una modella? Sì. Hai iniziato da sola con qualche amica che ti ha consigliato o la famiglia ti ha invogliato? No, ho iniziato da sola, con l'aiuto della mamma. Cioè la mamma ti ha spinto? Sì. E' a casa mamma? Sì. Ti sta guardando, ovviamente. Spero di sì. Perché non gliel'hai detto? No, perché oggi siete un po' litigato, quindi non so se mi sto guardando. Parliamone. Perché avete litigato, scusate? In caso vostro. Sì. Ho capito, ho capito. E te questo mestiere, tra virgolette, questo possibile mestiere lo coltivi attraverso queste esperienze o fai anche dei corsi o fai qualche scuola che in qualche maniera educa a fare la modella, la sfilata, eccetera, eccetera. No, non faccio niente. No, non faccio niente. Ma della natura ti ha detto... Paolo, vieni qua, scusa. La faremo. Vieni qua. Vieni qua, perché, insomma, Paolo che è il direttore... Fatevi un applauso a Paolino, eh. Che l'ho sempre chiamato in ballo. Però poi è la prima, il regista, il regista di tutto è Paolo Sciucci. Pensate anche di fare una scuola in tal senso. Sì. Stiamo già studiando una scuola di portamento di Bonton per queste ragazze, perché naturalmente lei ha già avuto un'esperienza l'anno scorso, perché già fa la furbina, ma sta zitta, ma è furba, e ha già avuto l'esperienza di Gallipoli. L'anno scorso è già stata con noi, con le otto ragazze, compreso Miss Mondo e Toscana, perché qui abbiamo ancora tantissimo tragitto da fare. Quanto dovete ancora fare? Ne abbiamo fatte 17 e arriveremo circa a 25 fra semifinali. Avremo due semifinali e finali intorno al 30-15 di maggio. Quindi la vincitrice poi parteciperà, insieme a tutte le altre ragazze che hanno vinto nelle proprie regioni, alla finale normale? No. Funziona che abbiamo due semifinali, di cui da queste due semifinali arriveremo poi alla finale, con 20-22 ragazze, di cui uscirà da questa finale Miss Mondo-Toscana, e le altre otto la seguiranno per Gallipoli in Puglia, per presentarci poi alle finali nazionali per tutta Italia. fra tutti coloro che nelle proprie regioni hanno fatto questo percorso. Perfetto. Sei esclusivista per la Toscana? Sono esclusivista per tutta la Toscana. Come ti è venuto in mente, scusa? Ma guarda, io è già da un anno e mezzo che avevo già lavorato anche per altri concorsi abbastanza importanti. Oggi questo è un concorso che sta diventando forse, lo spero, il numero uno. Sta superando tantissimi senza fare altri nomi. Ho tutta un'equipe dietro, trucco, parrucco, parrucchiera. Sono qui stasera? Sono tutte qua giù, la coreografa, la aiutante. Quindi naturalmente abbiamo tutto uno staff dietro che ci segue. Quindi naturalmente anche questo è molto importante, essere una famiglia tutta unita per portare avanti la baracca. Insomma, perché non è tutto facile quello che sembra. E poi nella comunicazione sei a posto? Perché c'è l'amico Antonio Tornioli, vi ha una mano. La comunicazione c'è Antonio Tornioli per Nazioni Tirreno. No, Nazioni, anche Nazioni. Cioè scrive per tutti, se sta porta... Ma è normale, le trasferisce a tutti perché c'è lui dietro. E quindi naturalmente siamo anche su tutti i siti. Quindi un'immagine pubblicitaria è da un anno e mezzo che ho intrapreso questa avventura, sta sempre, ancora non mi accontento mai, ma cercherò sempre di arrivare a determinati risultati che naturalmente ora proprio il 15 sarò con Mismondo Italia. Quindi che ha rappresentato... Ma porti qui? Sì, dipende, saremo a Milano, però magari se abbiamo un abbinamento cercheremo di portare una serata anche qua giù, molto bella. È arrivata quinta in tutto il mondo, quindi non è male. Si chiama Greta Galassi. Greta Galassi. Ascolta, guarda la telecamera. Tieni il microfono e dà la linea alla regia. Prego. No, vuoi fare la modella? Posso dire pubblicità e basta? Guarda lì, di cosa ti pare? Guarda la telecamera però. Pubblicità. Aspetta, ti devo inquadrare. Fermati. Guarda lì. Vedi? Sì. Che devo dire? Cosa dico? Nuova linea Livorno-Olbia Grimaldi Lines, compagni di viaggio Ci piace la città. Nuova Citroen C1. Da 8.900 euro con 5 anni di garanzia. We are the vision. Citroen. Futura Auto, da 30 anni insieme a voi. Compra poco o compra tanto, l'importante è essere contento. E da noi trovi tutto scontato del 50%. Nel reparto biancheria, zucchi e bassetti per i saldi invernali, tutto scontato del 50%. Magazzini mangini dove di moda risparmiare. Sempre. E noi come al solito, vi si aspetta. Magazzini mangini dove è di moda risparmiare. La rosa di terricciola Pisa. Pisa Mover è un progetto di collegamento rapido tra l'aeroporto Galileo Galilei e la stazione centrale che ha lo scopo di creare una connessione ad altissima frequenza tra i due capolinea con una fermata intermedia in corrispondenza del nuovo parcheggio scambiatore di Via Aurelia. La navetta, che coprirà un percorso di 1.800 metri in parte in piano e in parte sopraelevato, sarà dotata di una tecnologia a fune a trazione elettrica, senza conducente, e avrà una frequenza di 5-8 minuti. Pisa Mover sarà integrato con il sistema in corso di definizione denominato Metrobus, che dalla stazione centrale condurrà fino all'ospedale di Cisanello. In questo modo la mobilità cittadina verrà completamente riorganizzata, con grandi vantaggi per l'intero sistema di trasporto. In particolare per il quartiere San Marco-San Giusto, che beneficerà di un'ampia ristrutturazione e riqualificazione urbana. E per Pisa i vantaggi saranno rappresentati dalla diminuzione dei flussi veicolari. Infatti la realizzazione dei parcheggi scambiatori di Pisa Sud, con i 1.500 nuovi posti auto, serviti da un sistema di trasporto pubblico ad alta frequenza, ridurrà l'accesso dei mezzi privati in città sia da sud che da est. Con il sistema integrato parcheggi scambiatori Pisa Mover, sesta porta, Metrobus, cambierà completamente l'accesso da sud alla città. Sarà così possibile andare in centro e al polo ospedaliero di Cisanello, lasciando l'auto al parcheggio scambiatore attraverso un sistema di mezzi pubblici ad alta efficienza e ad alta frequenza. Infine, con l'introduzione del Pisa Mover, si trasferiranno da gomma a rotaia un milione di utenti l'anno, pari al 20% del totale, riducendo significativamente l'inquinamento acustico, ambientale e atmosferico, con una riduzione stimabile di circa 200.000 tonnellate per chilometro di CO2 l'anno. Pisa Mover, Smart Mobility Quando siamo nati, sapevamo di appartenere al nostro territorio. Sapevamo che qui avremmo seminato opportunità e realizzato grandi cose. Quando siamo nati, oltre mezzo secolo fa, eravamo certi che saremmo andati lontano. Ed è stato così. Abbiamo allargato le nostre prospettive, abbiamo aperto filiali in nuove piazze, abbiamo costruito una nuova idea di banca, senza mai dimenticare le radici. Oggi siamo una vasta rete di filiali, di sportelli, di punti banca. Siamo ovunque ci sia una famiglia che cresce. Siamo là dove un imprenditore intende dare corpo alle proprie idee. Siamo dalla parte delle eccellenze del nostro territorio. Ma non ci basta. Vogliamo investire nel futuro e nelle nuove generazioni. In tutti questi anni non siamo mai stati fermi. Abbiamo anticipato i fenomeni, perché siamo e vogliamo restare la banca di credito cooperativo più innovativa. Lo abbiamo fatto con la creazione del gruppo CABEL per i servizi IT e finanziari. Abbiamo aperto le porte ad un team giovane e preparato. Investiamo nella formazione continua e nell'aggiornamento dei nostri dipendenti. Siamo sempre connessi, grazie alla banca multicanale, una rete aperta al pubblico che ci permette un dialogo costante con i nostri clienti e capacità di risposta in tempo reale. Ci piace essere i primi, ad esempio con la costruzione del primo edificio italiano, completamente autonomo dal punto di vista energetico. E ci piace dare una chance all'arte contemporanea, perché la bellezza rende migliore il mondo. E adesso? Adesso abbiamo l'ambizione di fare ancora molta strada, aprire nuove filiali, sostenere altri territori. Senza dimenticare che ognuno di questi traguardi è dedicato ai veri proprietari della banca, i nostri soci. Voi. Manca di credito cooperativo di Pisa e Fornacette. Nuova linea Livorno-Palermo. Grimaldi Lines. Compagni di viaggio. Eccole qua. Ora mi piacete, ora mi piacete. L'applauso a queste bambine, accompagnate da Serena e Ilenia, giusto? Buonasera, Vibbe. Anche voi venite dalla Polisportiva Ghezzano, siete cresciute lì. Più o meno, più o meno, più o meno. Queste bambine cosa ci fanno vedere? Forza. Poi vi conosciamo direttamente tutte. Attenzione, pronti, attenti, via! Via! Quanti anni hanno queste? Quanti anni hanno queste? Da sei anni in poi. Considerate anche lo spazio un po' angusto, ovviamente. Eccola qua. Vedi come si fa sempre Iemma Ruscio, quando non sappiamo cosa fare. Eccola. Che puoi, Andrea? È uno sport che fa vivere sano, perché stanno bene insieme, crescono nell'ambiente giusti. Eccola qua. Bravi! Ancora, ancora un'altra esibizione. Eccola, uila! Abbiamo finito? Abbiamo finito? Un grande applauso, forza! Grazie anche a Serena e Ilenia. Allora, ritorniamo all'arena, Andrea. Maurizio, Stefano, perché vi facciamo sentire un ragazzo che è diventato presto un idolo della tifoseria, che si chiama Nascio, Lores e Valera, che in questo momento è un pochino indietro rispetto alla parte centrale di Giorgia Andata, ma ha tutte le qualità per scrivere cose importanti. Tant'è che su di lui ci sono tantissime squadre di Serie B, di Serie A. spero che possa fare la Serie B a Pisa, caro Andrea, senza dover tutte le volte tirar su qualcuno e poi mandarlo da altre parti. Sentiamo cosa ha detto, giovane ma intelligente, perché ha dato la sua chiave di lettura sulla sconfitta, Stefano, e da allenatore, anche te da giocatore, Maurizio, quasi da futuro allenatore, ti chiedo di interpretarlo, perché secondo me dice delle cose intelligenti, per me, poi magari per altri no. Sentiamo. Faccia un pochino più triste, perché quando si perde è così. Cos'è che non è andato stasera Varela? Non so, oggi abbiamo fatto il gol, sembrava una partita che potevamo reggere tranquillamente, poi ci hanno pareggiato, abbiamo lasciato un po' il gioco, abbiamo entrato nella disperazione. E' normale quando giochiamo in cassa cerchiamo di vincere, ma abbiamo lasciato un po' il gioco da parte, cercavamo palle lunghe e niente. Vi siete disuniti dopo il pareggio loro? Non siete riusciti a riprendere in mano la partita, vuoi dire? No, no, abbiamo cercato di vincere, ma lasciando il gioco da parte abbiamo cominciato a entrare nella disperazione per vincere e niente, abbiamo un po' lasciato di giocare. La voglia in assoluto di vincere vi ha portato a non essere razionali in mezzo al campo, di giocare con la testa, ti vuoi dire? Sì, succede spesso quando giochiamo in casa, che vogliamo vincere a tutti i costi, dobbiamo avere un po' di pazienza, soprattutto l'uno a uno potevamo farlo noi il gol. Invece, come ti dico, non avevamo più giocato e è andata così. Le difficoltà a entrare dentro la loro difesa, perché nasce questa grande difficoltà? Te qualche volta ci hai provato e in una palla l'hai anche passata in maniera altruista, forse se tiravi potevi anche fare gol quando avevi fatto quell'azione incredibile. Però è stato difficile per voi entrare nelle maglie della difesa avversaria, perché? Sì, come ti dico, oggi era una partita che se facevamo l'uno a zero potevamo reggerle tranquillamente, loro non stavano entrando, quindi potevamo anche far male sul contropiede. Però sì, dopo l'uno a uno abbiamo fatto fatica a giocare, quindi non entravamo col gioco. Stavano meglio in campo, questo va detto, tenevano molto palla, si trovavano bene in maniera ordinata e non ruffona. Sì, loro hanno fatto un bel possesso palla, noi eravamo un po' a controtempo, quindi loro hanno avuto un po' più il possesso palla di noi. A noi ci piace quando giochi, ma ci piace anche quando sorridi, mancano ancora 15 partite, capisco che perdere è dura, però ci vuole anche un po' d'ottimismo, perché la squadra ha dimostrato, come dire, tanti valori. Sì, sì, ma fa male perdere in casa, dopo il lavoro che stavamo facendo, quindi abbiamo sprecato una bella occasione. Cioè, ritornare a 6 punti dalla spada vietà fastidio. Sì, sì, sapevamo che noi siamo una squadra forte, quindi perdere queste partite fa male. So che su questa domanda magari non mi rispondi. Con Eusepi come è andato? Andava meglio con Montella? Nel senso, vi capivate di più? Eusepi è ancora lontano da capire le tue giocate, i tuoi veli, i tuoi vai e dai. No, Umberto è un crack, si è messo a disposizione da subito, è un grande compagno, quindi... Penso che ci troveremo meglio, pure con quello che gioca, perché la verità è che la concorrenza fa sempre bene, quindi... Pure quando entrano gli altri, sempre diamo il massimo, no? Per me è lo stesso giocare con tutti, o che giochi negli altri, basta che diamo il massimo, come chiede il Miss. Allora, prima di poi parlare con i ragazzi dell'ACI Pisa 1909, giovanissimi nazionali 2001, Andrea, e sentite cosa ha detto Varela? Insomma, la voglia di vincere a tutti i costi ci ha fatto diventare poco razionali. Sembra quasi come dire... Io credo che l'effetto Arena abbia un dato oggettivo positivo, qualche volta si riverbera, perlomeno al giudizio degli altri, al mio giudizio no. È una squadra che deve maturare, perché così come con il Siena ha cercato in modo un po' distratto la vittoria, e poi è stata punita in contropiede anche immeritatamente. Ma può avere questo effetto Arena, che è anche contrario? Io credo che una squadra che vuole andare in B non possa permettersi passi falsi di questa portata, in alcuni casi debba anche valutare di portare a casa un pari. Domenica il Teramo era più in partita, forse è il caso di portare a casa un pari. Maurizio, anche questo è un possibile effetto contrario a uno stadio come l'Arena? Non è un valore aggiunto? Lui ha detto, siccome dobbiamo vincere a tutti i costi, a tutti i costi... Pisa pretende questo, nel senso di... Ho capito, ma chi è un po'? No, è un fatto, diceva bene, che è un fatto un po' di inesperienza, perché sciogliere... Se hai un gioco non devi mai sfarti... Cioè come facetti pensiero, qualche volta anche se non si può vincere è meglio non perdere. E' meglio non perdere quello sempre, però è chiaro che se tu hai un filo di gioco devi continuare a fare il tuo gioco, qualsiasi sia... Stefano, come pensi? Ma io credo che non sia l'Arena, non è l'Arena, è l'Ambiente che porta a avere foga di... Quando parli dell'Ambiente cosa vuol dire? L'Ambiente vuol dire le aspettative che si creano intorno, dalla stampa, dagli addetti ai lavori, intorno alla squadra... Sai, quando uno incomincia a reggere a lunedì, domenica la vittoria, domenica la vittoria, domenica la vittoria... E' chiaro che l'Ambiente ti dà questa foga, che pura è chiaro che va a discapito del gioco di squadra, ma non credo che il giocatore in campo stia a guardare l'Arena, insomma, anzi è tutt'altro. Tutt'altro. Francesco Macri, buonasera. Buonasera. Insieme a Stefano Corsini, Alessio Orsini, ci sono, sì? Gabriele Pigneri, c'è? Matteus De Oliveira. Giaime. Giaime, c'è? Sì. Ecco, è il famoso Stavigliani qua, che mi incuriosisci sempre te. Uno che si chiama Matteus De Oliveira. Giaime. Perché questo applauso? Perché io sono un straniero, è per questo che ci vuole questo nome. Vabbè, dal nome e cognome si capisce che sei straniero. Ho intuito anch'io, Fabio ci sono arrivato anch'io, eh. Matteus De... no, dillo te il nome. Matteus De Oliveira Giaime. Giaime. Ma perché ridete? Guarda, poi venite qua, ve la faccio scontare io. Sei stagista? Sì, sì. Sono interocinato ora al Pisacalcio. L'ACPisa? Sì, sì, sì. Quanto è che sei qua? Cinque mesi. Cinque mesi. Fino ad agosto. Fino ad agosto. Ti sei venuto apposta dalla Spagna per far questo? No, dal Brasile. Io sono brasiliano, studio all'università nel Brasile. Faccio il mio scambio qui. È un programma di scambio di ricercatori, studenti, brasiliani. Il mondo in Brasile andrebbe bene. Sì, sì, sicuramente. Abbiamo unito la cubana, c'è, c'è, c'è. Vieni un po' qua, vieni qua, vieni qua a te. Vieni qua. È Italo-Cubana lei? Facciamone un applauso, forza. Ti chiami? Giulia Bruschi. Giulia Bruschi. Ma te sei Italo-Cubana? Sì. Parli tutte e due le lingue? Sì. Quindi se voi dovevi parlare, vi capite. No, non è portoghese. Mi parla portoghese e io spagnolo. No. Aspetta. È un casino. È un casino. Aspetta, andate qui, state qui, ragazzi. Ah no, c'è lui, giustamente, giustamente. Proprio non vi intendete in nessuna maniera, non c'è nessuna frase. No, io capisco bene in spagnolo perché gli altri paesi dell'America del Sud parlano in spagnolo e così capisco. Se dovessi presentare lei, e ora tra poco Giulia sfilerà per voi in spagnolo, no, in brasiliano. Che cosa dire? Quello che ho detto, tra poco. Giulia, vero? Sì. Tra poco Giulia sfilerà per voi qua a Sesta Porta. No, è complicato. Sì, è complicato. Non si può dire tutte le parole. In cubano come si dice? Non te lo saprei dire. Ma che si appena una lingua noi? No, lascerai stare Paolo, per l'amore di certo. Allora, non c'è... Ma di qualcosa, buonasera, benvenuto a Sesta Porta, Miss Mondo, dillo. Buona notte, saranno tutti benvindos a Sesta Porta. Paolo, è una bella ragazza lei, no? Sì, è una bella ragazza. Che vi ha chiesto il numero di telefono prima? Tutte le ragazze sono belle. Tutte le ragazze sono belle. Poi le presentiamo. Ritorna pure, grazie. Allora, parliamo un po' dei tuoi ragazzi, che vedo che sono particolarmente attenti stasera. Sì, sì, sono attenti. Più che alle vostre tattiche... No, venite qua ragazzi, se no la telecamera lì è impallata. Venite qua accanto a me. Più che alle vostre tattiche guardano altre cose. Allora, Lorenzo Bechini, dov'è? Forza, venite qua, venite qua. Lorenzo Campigli, Tommaso Cecci, Gianmarco Colombai, Alessio Gallicani, Gabriele Giomi, Matteo Lobosco, Nicola Smagrini, Aiman Malì, Francesco Nannipieri, Alessandro Pieragnoli, Lorenzo Salvaggio e Zingoni Lorenzo. Facciamogli un applauso. Questi sono i giovani, mettetevi in ginocchio, una parte in ginocchio ragazzi, forza. In ginocchio non c'entrate, in ginocchio. Che squadra è questa? Ma tu qua avanti ragazzi. Aspetta, ragazzi. Aspetta, attenta, attenta. È una buona scuola che sta crescendo e siamo tutti contenti. Laga, metti la sede. Ce l'hanno 100, non è? No, lui è anche lui. Che non può, ma altri sì. Avete paura di spettinarvi ragazzi. Ma da lì avete anche una visuale abbastanza interessante. Lo vedo, lo vedo, sì. Siamo una buona squadra che sta lavorando e sta cercando di crescere per raggiungere i nostri obiettivi dell'annata. Guarda, non ti filano neanche. Te lo posso garantire. No, l'importante è che... Guardano tutti in prima fila. L'importante è che mi filano gli altri, poi loro possano fare che gli fanno. Come sta andando il campionato? Il campionato sta andando abbastanza bene, tra alti e bassi. Ora abbiamo acquisito un po' di continuità e stiamo crescendo. L'allenatore Stefano Corsini. Ciao. L'allenatore in seconda. Perché ridono, scusa? Perché sono detto ciao. Ah, cioè ridono di niente sostanzialmente. Però lui è stato il più applaudito, è stato lui. Il brasiliano è tosto. Il brasiliano è forte. Il Matteo è forte. Ascolta, all'allenatore in seconda. Fare l'allenatore in seconda a questo livello, cosa vuol dire per te? Una cosa che fa piacere. Poi io con Francesco faccio il secondo a Francesco già da due o tre anni. Quindi mi trovo bene e mi piace. Si impara accanto a lui? Sì, certo. L'amico Alessio Corsini. Ciao Alessio. Ciao. Bene, bene. Racconto, racconto che sono dei ragazzi tosti e duri, nel senso che sono duri, molto duri. No, no, però sinceramente sono dei bravi ragazzi, hanno fatto un bel gruppo e ne siamo molto contenti noi. Siete contenti? Sì. Fa un grande lavoro da quelle parti, perché su questo argomento poi ci tornerò successivamente. Però, non voglio ovviamente coinvolgere voi, perché non è di vostra competenza, però è un argomento del settore giovanile che riprenderemo anche in altre trasmissioni, perché la nuova proprietà, o perlomeno chi è entrato in società, ha le idee chiare in tal senso, il settore giovanile deve ritornare a Pisa. Quindi capiremo poi gli incontri, fa le parti, come andranno a finire. Intanto diciamo grazie a voi per quello che fate. Sì, infatti è importante il settore giovanile, anche perché è una risorsa fondamentale per la prima squadra. Lavorare nel settore giovanile per noi è determinante, perché più si riesce a lavorare nel modo giusto, più si riesce a fare selezione giusta, più si riesce a costruirci in casa dei giocatori, secondo me è un vantaggio anche per la prima squadra. Quindi nel momento in cui si riesce ad arrivare a questo livello qui, secondo me abbia fatto un gran passo in avanti. Si parla tanto di gruppo, è un gruppo questo? Molto, molto, si impegnano... Smettete di dire i ragazzi, poi ve la fanno pagare, occhio eh. Ci vogliono bene questi ragazzi. Sei? Gabriele. 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 Gabriele, massaggiatore. Esatto. Giovanissimo, fai massaggiatore, giovanissimo. 5 anni, sì, sì, sì. Vabbè, io vengo qui e rappresento... Massaggiare, massaggiare. Ma anche a Miss Mondo c'è massaggiatori o massaggiatori? No, massaggiatori. Manca, fermati, fermati. Fermati, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Te, 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 vieni qua, sì. Vieni qua. Manca il massaggiatore... Ah, lei è piccina, giù. Vieni, 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 vieni qua. Ti metto qui accanto, vieni qua accanto a lui. È anche un bel massaggiatore, no? Sì, sì. Come sì, sì? Ti piacerebbe avere un massaggiatore prima di una sfilata come lui? Ma perché no? Paolo, pensaci. Tonifica? Tonifica, tonifica. Penso serva, insomma, prima di una sfilata. Poi non sono dell'ambito, però... Si usa sempre le mani, eh? Sì, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Paolo. Non ti sentono, Paolo, scusami, che dici? Ti rivolti, ci riservi, che fai? Gira, vieni qua. Vengo accanto a te, amico Massimo. Allora, di solito io vado alle 3, alle 15, 20 e 30 per iniziare poi la serata. Con un massaggiatore, ecco, arriviamo alle 11, le 10 e mezzo. Già, già, ora come ora stacco abbastanza tardi perché mi danno parecchio da fare. Lì, eh? No, insomma. Ci sarebbe tanto da lavorare. Mi mettete tutti e due davanti, per favore? Tutte e due, vieni, vieni. Vieni, vieni. Mi va bene. Allora, te hai 25 anni, lei ne ha 15, quindi occhio, eh? Vediamo un po', fate un po' una passerella così tutti e due. Sì, 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 voglio che... Eh, lei, passeggiate, passeggiate insieme, forse. Insieme? Sì, eh, certo, una sfilatina. Che soffa? Oh no, con lei! Con lei, vai. C'è mai un massaggiatore? Vai. Attenzione, attenzione, ciak, si gira. Mano nella mano. Eh! Grazie, poi ci sentiamo dopo. Te da stasera sei fottuto, lo sai, no? Mi sa anche a me. Ragazzi, voi avete invidiato il vostro massaggiatore, dirmi la verità. Sì o no? Sì. Ma perché vi vergognate? Chi è che vorrebbe fare una sfilata con qualcuna? Nessuna. Ragazzi, forza, è un po' da attributi. Eh? Zingoni. Zingoni? Vabbè, vabbè, in bocca al lupo ai giovanissimi 2001 del Laci in Pisa. Domani non fai più vita. Grazie, ciao. Ciao, ciao ragazzi. In bocca al lupo. Ciao. Aspetta, te rimani qui, te rimani qui. Andate, andate pure. Allora, quanto tempo abbiamo Giancarlo per la pubblicità? Pubblicità. Allora, ho mantenuto qua l'amico Mateus, perché devi dire che bisogna andare in pubblicità. In brasiliano come si dice, insomma. Aspetta, fermo, vai. Guarda là. Fichiamo ora con un momento pubblicità. Ciao, fermi, fermi. Fichiamo ora con un momento pubblicità. L'impossibile diventa possibile. Nuova Focus Wagon con Active Park Assist. To help you, go further. A 195 euro al mese. Blue Bay. A Pisa, Livorno, Cecina e Piombino. Ford si dice così. Cerrai Elettronica. Cellulari e telefonia. Impianti di sicurezza per abitazioni e aziende. Consulenza, installazione, assistenza. Cerrai Elettronica e a Pisa. In via Battelli 61. In Corso Italia 22. In piazza Sant'Antonio. E al centro commerciale Pisanova. E a Ponte d'Era. In piazza Gronchi 35. Cerrai Elettronica. Da 40 anni al vostro servizio. Banca Popolare di Laiatico. Dal 1884 sostiene lo sviluppo della provincia di Pisa. 5.700 soci, 30.000 clienti, 17 filiali. È operativo il terzo sportello nella città di Pisa. In via Bargagna, zona Cisanello. Banca Popolare di Laiatico. Pensare globale. Agire locale. Bertolini Assicurazioni con 40 anni di esperienza, professionalità e consulenza in tutti i rami assicurativi. offre le migliori coperture assicurative al minor costo. Per tutti gli sportivi e gli abbonati del Pisa, sconti e promozioni particolari. Ciao, sono Fabrizio Bertolini. Vi aspetto nei nostri filiali di Pisa in via Cesare Abba, di Pontassierchi in via Ceghevara, di Cascina in via Cei e ad Asciano in via Possenti. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Non trascurare la tua salute. Il risparmio per visite mediche, esami diagnostici e servizi domiciliari è possibile a Pisa grazie a GeoSalute. Chiamaci allo 050 61 39 325 o collegati al sito geosalute.it Compagnia Interportuale Pisana Servizi integrati alla logistica internazionale Via della Darsena Pisa Telefono 050 800 841 Allora, terza ed ultima parte della nostra trasmissione. Sono sempre qui in compagnia di Luca e Daniela, istruttore agonistica, tutti e due istruttori agonistici. Quanto tempo vi ci vuole a mettere in asset queste ragazzine che prendete da piccoline? Ci vogliono diversi anni di lavoro in palestra e di allenamento almeno un paio a settimana che è la frequenza minima. Un paio a settimana e per portarle poi a fare iniziative, eventi e manifestazioni Daniela quanto tempo ci vuole? Le bimbe che fanno già delle gare si allenano anche 3-4 volte alla settimana e fanno 2 ore, 2 ore e mezzo di allenamento ogni volta per arrivare a avere dei risultati. Che interrogativi deve avere una ragazzina che si avvicina alla vostra polisportiva? Perché le vedo, io le eviterei tutte le settimane educate, composte, un ambiente sano, si vede, no? Certo, la cosa principale è quella cioè nel senso che l'ambiente è sano devono stare bene assieme, devono fare gruppo anche se uno sport è individuale però il nostro principale obiettivo è quello che le bimbe facciano gruppo che siano bene assieme che crescano in un posto sano. Qualche obiettivo, anche qualche risultato Luca, è arrivato, no? Allora, le bambine dell'agonistica partecipano ai campionati sia a WISP che ai CS la scorso fine settimana hanno partecipato alla prima prova del campionato regionale Com'è andata? E' andata anche bene, siamo riusciti a portare via un paio di coppe, quindi le bimbe e l'entusiasmo... Benissimo, complimenti! Allora, ci sono ovviamente anche Virginia, se non sbaglio, Serena e Ilenia, vero? Allora, bambine, sta a voi, forza! Fateci divertire! Queste sono le più piccoline quindi quelle che hanno iniziato da meno tempo Ma noi li facciamo... Anzi, l'applauso sarà ancora più forte Vai! Ecco, per fare una cosa così quanto tempo ci mettete? Indubbiamente ci sono già delle doti diciamo di natura perché le bambine devono essere sciolte devono essere coordinate devono essere forti devono essere intelligenti perché la ginnastica è uno sport molto particolare serve anche molto molto impegno perché anche degli elementi che sembrano così abbastanza banali nella realtà poi non lo sono Allora, vediamo ancora delle esibizioni Non c'è spazio, mi dispiace Presumo che si chiami Francesca questa Grazie Questa è Mary Nacci Allora, io vi ringrazio Grazie al Presidente a Riccardo Lorenzi che è venuto qua con questa polisportiva siamo orgogliosi di avervi avuto qua con noi è stato un piacere è stato molto bello spero in qualche maniera che anche la nostra trasmissione la nostra emittente abbia contribuito a far conoscere quello che fate e complimenti ve li meritate tutti veramente Grazie, grazie a voi Noi invitiamo i genitori e comunque anche le bambine che sono interessate a questa disciplina che poi alla fine è una disciplina olimpica su quattro attrezzi di venire in palestra e provare insieme a noi E starete meglio sicuramente anche con voi stessi Ciao bambine, come va? Tutto bene? Facciamogli un grande applauso, dai La prima è Ilenia la più piccolina è Ilenia Ilenia? Ti chiami Ilenia te? Vieni qua, quanti anni hai? Sette? Anche te sette Te? Dieci 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 E' il voto che vi meritate Bravi! Ciao Ciao, grazie Allora per la contentezza anche dei genitori che ho visto Maurizione che era lì contento Grande Maurizio Andrea Che c'è un'ultima parte interessantissima non andate via mi raccomando Andrea ti avevo detto ti facevo una domanda sulla società una domanda che come dire oggettiva è arrivato un nuovo socio 40% di quote il 50% dell'80% della Carrara Holding il 19% ancora in possesso di Carlo Battini l'1% del Comitato Vecchio Corriere Azzurro ha detto lo riconsegniamo a chi ha la maggioranza perché noi usciamo qual è la tua analisi io vedo far calcio in modo molto professionale molto professionistico quindi credo che i nomi che rappresentano adesso il Pisa nello scenario nazionale facciano da calamita credo che molti giocatori adesso vogliano venire al Pisa non tanto per la piazza che siamo che comunque è una piazza inespressa perché bene o male da da oltre 20 anni Pisa è nell'anonimato del del calcio mantiene una capacità attrattiva molto forte che adesso è diventata più baricentrica è diventata più baricentrica grazie agli interpreti in società da Lucchesi a Gattuso all'avvento della della Terra Vision sostanzialmente quindi da questo punto di vista sono molto contento di quello che sta avvenendo è chiaro che poi alla fine conteranno i risultati quindi conterà soprattutto andare in B questo l'anno prossimo e riprendersi il settore giovanile perché insomma una città come Pisa deve avere il settore giovanile riprendersi il marchio riprendersi quel simbolo ritornare Pisa Sporting Club perché insomma effettivamente è la novella dello stento e magari una delle maglie degli amici dell'associazione Cento rilanciarla quella ce n'è una in particolare che a me piace molto con con le bande grosse questo per quanto riguarda volevo tornare solo un attimo sul discorso del Daspo le tasco sì ma solo un attimo chiedo alla regia Centrale se è possibile rivedere la locandina perché Andrea vuole ritornare sull'argomento che ha caratterizzato il mio primo ingresso ma quello è uno spunto e sarà sicuramente dibattuto dalla città venerdì parlavo prima dei profili di incostituzionalità di questo articolo 9 legato alla tessera del tifoso io personalmente non ho niente contro la tessera del tifoso né contro chi è tesserato io sono uno di quelli però nemmeno nulla contro chi non lo è il problema è che non si parla abbastanza di rivedere questo articolo 9 perché chi viene condannato giuridicamente se sconta la propria pena ha diritto ad essere riabilitato sotto tutti i punti di vista invece l'articolo 9 perché molto spesso si dice si tagliano giudizi sommari l'articolo il problema delle tifoserie italiane che contestano la tessera del tifoso il problema è l'articolo 9 e questo meriterebbe un approfondimento non solo da parte delle televisioni ma anche del mondo legale perché è palesemente innaturale che chi ha scontato la propria pena non abbia poi gli stessi diritti dopo che l'ha scontato ok allora ragazzi venite qua come abbiamo iniziato vogliamo poi quasi chiudere venite tutte perché vogliamo chiudere scusa vogliamo chiudere in bellezza in tutti i sensi allora Chitana l'abbiamo già un po' più conosciuta te ti chiami? Eleonora Eleonora Moriti di Pisa 20 anni sei la più anziana con 20 anni ficheremoci un po' anche te qual è l'obiettivo nel fare questo mestiere? Mi piacerebbe fare la fosomodella anche a te la fosomodella? Sì Sì Perché? È sempre stato un mio sogno fare la modella la fosomodella È uno tuo come dire desiderio personale o alimentato anche da amici da famiglia dal fidanzato non so se ce l'hai da chiunque? No è sempre stato un desiderio e la mia famiglia mi ha aiutato sì Anche te 15 anni hai detto vuoi fare questo avete le idee chiare da questo punto di vista? Io sinceramente vorrei prima lavorarmi in medicina e poi se mi è possibile diventare una modella fotomodella Intanto questo è un applausino no? Aspetta va vicino scusate scusate no ma per motivi di inquadratura non lo faccio per altri motivi Barus Allora cioè te prima volessi laurearti e poi provare a fare questo mestiere sì quindi per te la priorità è il lavoro sì perché secondo me quello è quello che resta perché poi il mondo della moda è un mondo ampio con tanti tanti inceppi intoppi e non tutti riescono ad arrivarci secondo me cosa vuol dire con inceppi intoppi eh cioè c'è qualche ostacolo di troppo sì sì vabbè e questa è la vita è fatta di scogli no caro Paolo e bisogna far così e guarda Paolo eh riavvicino alla signorina con la con la corona scusa mi fai entrare qui posso te invece anche te presumo me l'hai già detto poi di fatto vuoi fare questo mestiere sì mi piacerebbe diventare un'attrice io attrice addirittura quindi vuoi fare cinema sì allora io sono una ballerina faccio danza dall'età di tre anni e ho sempre avuto la passione e non lo dici ora eh si faccia ballare no e sinceramente oltre all'attrice mi piacerebbe anche diventare una showgirl cioè proprio showgirl attrice balleria balleria no sì sì un po' tutto fare un po' tutto fare un po' tutto quanti anni hai 18 18 non mi guardare male per cortesia la stessa domanda a te mi sembra cioè pleonastico farla una domanda a chi fa questo tra virgolette fa questa scelta però hai sentito vorrei fare addirittura la laureata in medicina prima di te io in primis finire la scuola nei migliori dei modi che scuola stai facendo? di estetica faccio l'estetista e dopo con successione fare la modella anche te la modella? sì anche te spinta da qualcuno? io in primis era un po' il mio sogno perché ho iniziato a voi sette anni e poi con l'aiuto di mamma tutte mamma eh che spinta papà mai senti il momento più bello e più brutto in questo nuovo ruolo? il momento più bello è quando crei dei legami all'interno di tutto ciò amicizie eccetera il momento più invidie? eh ce n'è tante però stanno un po' a noi stessi un po' superare queste invidie e isolarsi un po' vi faccio una domanda che farebbe Frizzi a Miss Italia preferiresti sposare un calciatore o un operaio? eh io un calciatore io sinceramente l'importante è che sia un ragazzo serio shh hai detto l'importante è che sia un ragazzo serio poi non importa cosa occhio la serietà e la sincerità secondo me sono quello che più contano quindi il calciatore la sincerità per lo meno no calciatore calciatore si meglio calciatore si è sbagliato tutto totuccio vieni qua totuccio vieni qua vieni qua totuccio perché tutte in fila sono o meglio dico sì totuccio sì un minuto datemi un minuto un minuto è il massimo vieni qua guarda dove ti metto Paolino vieni qua dobbiamo chiudere mettiti qui accanto a noi allora sono tutte in fila e tutte in fila vogliono fare un mestiere cosa potremmo fare per loro per loro quello che loro desiderano e quindi attrici modelle quindi sei disposta a fare la fila anche per loro per farli fare l'attrice certo siamo apposta certamente certamente che dire dobbiamo chiudere Giancarlo allora facciamo una cosa ragazze io vi lascio il microfono chi lo vuol prende il microfono per salutare tutti vediamo un po' c'è qualcuna che se la sente lei se la sente io sì o no dai sì sì allora vai là avanti al nome di tutti saluta tutti i telespettatori di Telegram Lucato di Sesta Porta e l'appuntamento a martedì prossimo forza allora questa puntata di Telegram Lucato è finita ci vediamo martedì prossimo alle 21.30 arrivederci buona serata a tutti grazie a martedì prossimo a martedì a martedì prossimo